delle entrate. E qual è questo valore? Ve lo dico così, ce lo diciamo. Questo valore ammonta a Euro 35,10 al metro quadro. Dopodiché di là si possono sviluppare tutti i calcoli necessari. Quindi nel mese di agosto non c'è stato immobilismo, al contrario sia da parte della città metropolitana, dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Corato c'è stato anzi grande attivismo che ci porta oggi diciamo ai primi di settembre già diciamo a traguardare l'obiettivo di affidare le progettazioni da parte della città metropolitana subito per il liceo a breve per il nuovo istituto professionale. Va bene, vi ringrazio. Chiede di intervenire il consigliere Mascoli, prego. Chiedo scusa, buonasera a tutti, al sindaco, ai consiglieri, ai dipendenti, ai colleghi e al pubblico presente. Dunque chiaramente mi associo anch'io al cordoglio di tutte le vittime di incidenti sul lavoro sperando che non si continui a mettere quei puntini, puntini, perché abbiamo superato abbondantemente anche quelle dell'anno scorso come vittime ma quelli che sono aumentati anche di più in maniera esponenziale e il numero degli incidenti sul lavoro anche invalidanti in maniera permanente e questo ci deve far riflettere a livello sia locale che a livello nazionale. Quindi questa vicenda drammatica su cui giustamente il nostro sindaco ha espresso pubblicamente la necessità di riflettere e cito testualmente sulla necessità di far crescere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e investire in sicurezza vuol dire aumentare i controlli, effettuare e verifiche su impianti, attrezzi perché incidenti che sembrano fortuiti rimandano al fatto che si dovrebbe fare più attenzione per avere garanzie e certezze sui luoghi di lavoro. Ovviamente, caro sindaco, sono totalmente d'accordo con lei come non si può essere d'accordo. Come amministrare? Dobbiamo essere esempio nell'azione di controllo e verifica, tesa a garantire la sicurezza delle persone e dei luoghi. I nostri dipendenti comunali lavorano in sicurezza, questo voglio, lavorano in sicurezza i nostri dipendenti, i dipendenti che seguono lavoro per conto del comune sono in sicurezza? Investiamo a sufficienza per garantire che si controlli sul rispetto delle norme di sicurezza, l'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, lavoratori diretti e indiretti. Poi ci sono i luoghi, gli spazi aperti, con sicurezza per i nostri cittadini e anche una strada senza buche eventualmente, un ponte sicuro, il cordolo dell'estramurale rotto su cui puntalmente inciampa, io lo vedo quanti infortuni che abbiamo, la gente che può fare rivalse e quindi sollecito eventualmente per il rifacimento del nuovo estramurale con tutti quei criteri di sicurezza applicati, i ponteggi per ristrutturazioni che da dieci anni occupano strade del centro storico, parlo di quei ponteggi alle spalle per fare un esempio della chiesa del Santa Maria Greca, grazie Ignazio, e altre strade dove insistono ponteggi ormai da troppo tempo e magari usurati e vanno a giocare i bambini là, quelle strade buie diventato orinatorio anche a cielo aperto, i luoghi e quelli comunali sono in sicurezza e le scuole lo sono, i nostri piccoli bambini della nostra città vivono ambienti sicuri, salibri e controllati, ecco la prossima settimana riaprono le scuole, gli impianti di riscaldamento sono stati controllati e collaudati, le menze partiranno in tempo, le strisce pedonali, specie in prossimità delle scuole, esercizi commerciali, sono tutte una serie comunque di incombenze che cadono su questa amministrazione ma non sono altro che i postumi poi di una situazione pregressa che emerge sempre più preponderante. Purtroppo, Sindaco, nel tempo non sempre i RUP hanno potuto verificare l'esecuzione dei lavori e dei servizi appaltati. In conclusione vorrei cogliere al volo la volontà di investire sulla sicurezza, invitandola comunque a riflettere sulla creazione eventualmente, come si può fare, di una struttura interna al Comune che possa raccogliere tempestivamente le segnalazioni dei cittadini, una specie di URP in merito all'esecuzione dei lavori ed erogazioni dei servizi, al fine di intervenire tempestivamente per correggere anomalie che, come dice lei giustamente, possono apparire fortuite ma che invece espongono erogatori e fruitori, lavoratori e cittadini a rischio per la propria incolumità. Pronto per questo, quando io parlo di consapevolezza delle responsabilità che ricadono su tutti noi, consiglieri comunali, assessori, sindaco, tutti noi, è proprio questa consapevolezza di dare un nuovo impulso, una nuova linfa vitale per poter dare dei servizi sempre più attagliati, sempre più corrispondenti a quelle che sono le vigenti normative di legge. E quindi, sendo la necessità, e la voglio fare, questa estrema chiarezza, onde evitare facili ed artate strumentalizzazioni tese ad equivocare, a quartare o a forviare, o a deflettere addirittura dalla verità, che la mia azione sarà sempre, perché sono stato eletto in questa maggioranza e sono coerente al programma che noi abbiamo stilato, perché è un programma serio, un programma articolato, è un programma che ha bisogno di tempo, ma ci sono situazioni indifferibili. Quindi la mia è sempre un'azione operativa, creativa, propositiva e costruttiva. Grazie. Grazie consigliere. Se non ci sono altre dichiarazioni, possiamo aprire alle interrogazioni. Ha chiesto la parola il consigliere Salerno. Prego. Grazie presidente, sindaco, assessori, consiglieri, colleghi. Sindaco, ci è giunta voce di un sopralluogo effettuato a Corso Cavour, praticamente, nella sede della stazione dei Carabinieri, per effettuare una visita sulle condizioni di sicurezza e idoneità dello stabile al fine dell'utilizzo per lo scopo a cui è adibito. Vorremmo, se possibile, sapere dell'ucidazione in merito, se lei ha conoscenza oppure se avete fatto la visita e vi siete riservati. Quindi se ha modo di chiarirci i passaggi, grazie. Sì, prego. Un attimo solo, sindaco, possiamo, c'è la diretta, c'è il poprocio? Sì, allora. Un attimo solo, sindaco, chiedo scusa. Che facciamo? Devo sospendere? E perché c'è problema? Va bene, però... Neanche quella sui social, va? No, no, no. No, no. Va bene. Sì, sì. Prego, sindaco. Tanto ci sono i verbali poi per chi, insomma, perde questo pezzo di diretta. Allora, consigliere Salerno, sì, effettivamente c'è stato un sopralluogo interno, diciamo, predisposto dal comando dell'arma dei carabinieri per verificare appunto il rispetto delle attuali normative e che è appunto verificare che la stazione dei carabinieri sia rispondente alle normative oggi vigenti. L'esito di questo sopralluogo non è ancora ufficializzato, cioè quindi di ufficiale non c'è ancora niente. Di ufficioso si ravvisano delle criticità, diciamo, nel senso che quella stazione che ha anche i suoi anni, ha un secolo di storia, necessiterebbe, usiamo il condizionale perché ripeto non c'è niente di ufficiale, necessiterebbe di lavori, di interventi per appunto la messa a norma effettiva qualora l'esito andasse in tale direzione. Ma, diciamo, a fronte di questi rumors mi sono celermente attivato non solo con la stazione di Corato ma anche con appunto i comandi sovrapposti per, diciamo, innanzitutto accertarmi della questione e anche scongiurare l'ipotesi che questo possa essere poi causa nel mentre che è, la stazione viene, diciamo, ammodernata, possa essere poi causa di una riduzione, diciamo, della presenza dell'arma nella nostra città e quindi è in corso questa interlocuzione e ho trovato, diciamo, nelle sfere superiori massima disponibilità, attenzione e anche consapevolezza della importanza che la stazione dei carabinieri svolge, come anche ho trovato pure, diciamo, una, diciamo così, ufficiosa, perché ripeto non c'è niente ufficiale, siamo ancora sul piano dei rumors, anche volontà di salvaguardare anche la sede storica dei carabinieri lì ubicata su Corso Chiavur che appunto è lì da cento anni, da un secolo, quindi non può essere cancellata, diciamo, che poi si possa in prospettiva anche andare a individuare una nuova sede, diciamo, più grande, più rispondente alle esigenze e chissà che anche per un salto, diciamo, di grado da stazione a comando, questo è nell'auspicio di tutti e c'è, è chiaro. Rimane il fatto che quello comunque è un presidio storico dei carabinieri che va anche a sua volta salvaguardato. Quindi concludo dicendo che l'attenzione dell'amministrazione è mia personale e massima su questo argomento, attendiamo di capire, diciamo, gli esiti ufficiali di questo sopralluogo interno fatto dall'arma dei carabinieri. Consiglio Salerno, prego, se deve replicare. Sì, grazie. No, niente di particolare. Il sindaco è stato abbastanza chiaro. Quello che ci auguriamo è che la vicenda venga seguita con la massima attenzione perché non possiamo permetterci di poter in qualche maniera, appunto come diceva lei, una riduzione del personale sotto questo aspetto o eventualmente qualunque tipo. Per cui essere attenti e immediatamente operativi eventualmente a qualunque tipo di necessità dovesse sorgere. Grazie. Grazie consigliere Salerno. Prego consigliere Addario. Grazie Presidente, saluto tutti i presenti. Niente, chiaramente mi unisco al cordoglio per l'evento tragico che c'è stato a Corato. Vorrei però aggiungere un qualcosa e cioè dobbiamo stare attenti perché parlando l'altro giorno non era ancora avvenuto il fatto, si parlava di sicurezza e un addetto ai lavori diceva che troppo spesso si pensa a mettere a posto le carte piuttosto che a far crescere la cultura della sicurezza. Quindi cerchiamo di lavorare in questo senso. Quindi chiediamo anche a tutto il Paese di lavorare in questo senso. Non è solo una questione di mettere i documenti a posto ma quello di acquisire proprio una cultura della sicurezza sul lavoro. Chiaramente non entro nel dettaglio dell'episodio perché non è assolutamente il caso. Niente, poi il mio intervento invece era un po' di allerta. Allerta perché cosa? Temo che il Governo nazionale stia facendo un po' nei riguardi di noi del Sud, della Puglia ma di tutte le regioni del Sud. Vedo scusa consigliere, però siamo nello spazio dedicato alle interrogazioni. No, allora rimando alla prossima. Perché lo spazio delle dichiarazioni in apertura di seduta erano precedenti. No, perché chiuso quello spazio apriamo alle interrogazioni. Non intenevo fosse stato chiuso. No, ho detto apriamo alle interrogazioni. Io ho provato a pigiare. Lo so, però sai che c'è che adesso mi dispiace perché poi se creo il precedente, insomma, le ho distinti i due momenti. Non ho neanche onestamente sentito che lei ha detto che apriva alle interrogazioni. Perfetto. Grazie. Mi scusi consigliere, purtroppo insomma dobbiamo stare nelle regole. Io lo facevo per il bene di tutti. No, non discuto però. Insomma, poi se i colleghi non hanno nulla in contrario, lo facciamo finire l'intervento. Esattamente, quindi perché abbiamo, io purtroppo gli ho, mi scusi consigliere, io ho aperto. Capisco anche il motivo perché mi censura. No, no, no. Allora, un attimo solo consigliere a Dario. Ho distinto i due momenti. Ho chiesto di intervenire sulle dichiarazioni, poi ho detto se non ci sono altre dichiarazioni apriamo alle interrogazioni. Mi scusi. Infatti l'ho fatta iniziare e credevo che l'interrogazione seguisse dopo. Io ero certo che fossimo ancora nella prima fase, tanto che mi è sembrato che stesse il consigliere Salerno. No, no, no. Il consigliere Salerno stava correttamente facendo l'interrogazione. Mi scusi consigliere. Domani ne sentiremo parlare in televisione delle cose di cui volevo parlare oggi. Ha chiesto la parola il consigliere Mascoli. Prego. Grazie. Intanto, la integrazione, perché poco fa, vi ho informato, sindaco, ma proprio pochi minuti fa, ho informato anche l'assessore, l'assessore Sinisti, di quelle foto, sempre inerenti alla sicurezza, di quelle strade che sono tangenziali alla ex 98. Dunque, quelle strade sono completamente intasate, siccome siamo via Casillina per fare un esempio, no? Sono completamente intasate anche da carogne di animali che, come ben sappiamo, sono poi purtroppo foriere di infestazioni, infezioni o lezzi indesiderati, chiaramente, ma tutta una serie di problematiche, perché fra poco si avvierà la stagione delle piogge e si rischia moltissimo. E quindi quella è l'integrazione. Io l'interrogazione è che innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare i consiglieri di Bartolomeo, insomma, per il lavoro svolto a supporto degli uffici per la questione del sito istituzionale, ma soprattutto perché da sempre realizza video informativi, non solo per la cittadinanza, ma anche per noi consiglieri comunali, sempre più fuori dai processi decisionali riservati e a una stretta cerchia, sempre più ristretta di eletti. E quindi nell'argomento in merito alla realizzazione del sito, apprendo dal collega consigliere, che ho visto in video, che ci sono avanzate delle somme spendibili in tecnologia. Quindi io chiedo, visto che ci sono avanzate queste somme, se è stato previsto per il nuovo sito un'area in cui sarà possibile reperire gli atti pubblicati sull'albo pretorio, senza limitazione di tempo. Perché, come tutti sappiamo, oggi gli atti restano pubblicati per solo 15 giorni, termini imposto dalla legge. Ma un'amministrazione che fa della trasparenza il proprio cavallo di battaglia, ed è una delle cose su cui ci siamo incardinati nel programma, dovrebbe garantire ai propri cittadini la fruibilità degli atti, sempre e senza dover ricorrere, trascorsi 15 giorni, a costosi accessi e dare gli atti di accesso ai sensi di legge della 241, articolo 328, che comunque fanno perdere tempo. Invece, rimanendo sul sito, uno li può consultare quando vuole, perché già i poveri dipendenti comunali sono un terzo di quelli che dovrebbero essere come organico. Poi li andiamo a sopparcare di ulteriori lavori e non mi sembra giusto. Quindi, sul nuovo sito sarà possibile reperire le trascrizioni degli interi consigli comunali e non solo per favore i preliminari, se possibile? Sul nuovo sito sarà possibile reperire le trascrizioni delle commissioni consigliari, attese che anch'esse sono pubbliche e dunque non c'è nulla di secretato? Ci sono verbali di commissioni che i cittadini non possono reperire e io ritengo in nome della massima trasparenza che quei fondi in avanzo vadano veicolati in questa direzione. trasparenza e facile accesso agli atti. Le mie domande dunque sono il nuovo sito prevede l'albo pretorio a disposizione dei cittadini senza limiti di tempo? Il nuovo sito prevede le trascrizioni integrali dei consigli comunali e commissioni comunali? E se non lo prevede è possibile utilizzare i fondi avanzati per offrire questo servizio? E ultimo quesito, a titolo di curiosità, al bando hanno partecipato, è una mia curiosità, aziende coratine? E quindi questa interrogazione, come l'altra, la porgo alla segretaria comunale, la dottoressa Loiso, e vedo che si è prenotata la consigliera d'Introno. Io cedo la parola al consigliera d'Introno e l'altra interrogazione la faccio dopo della consigliera d'Introno. Sì, un attimo solo, consigliere Mascoli, mi sta dicendo che vuole risposta scritta per questa interrogazione? No, no, è sua facoltà, le sto chiesto. Quindi vuole una risposta scritta. Va bene. Allora, se nel frattempo magari facciamo, sì, ascoltiamo l'interrogazione della consigliera d'Introno e poi le faccio fare l'altra interrogazione. Prego, consigliera. Grazie, Presidente. Dunque, a seguito di un bando GAL si è provveduto alla riqualificazione di tutta una serie di strade rurali, Piede Piccolo, Torre Mascoli, Tratturello Pedale ed altre, per un totale di circa 35 chilometri di strade. Unitamente a questo bando è stato promosso un altro intervento denominato Mobilità Lenta e Sostenibile, che mira ad introdurre sul territorio rurale mezzi di trasporto ecosostenibili, quindi biciclette elettriche ed infrastrutture idonee. So che entrambi gli interventi sono stati avviati da tempo, quindi innanzitutto chiedo di sapere se sono stati portati a termine. Però a tal proposito, non so se Sindaco ricorda, durante il Consiglio Comunale del 22 aprile 2023 le chiedevo se questa amministrazione avesse intenzione di partecipare all'avviso pubblico della Regione Puglia avente ad oggetto il programma di sviluppo delle strade rurali. Un avviso pubblico importantissimo che ci consentirebbe di proseguire l'attività di riqualificazione già appunto avviata grazie al bando GAL. Sindaco lei in quell'occasione mi diede risposta affermativa, quindi ci aveva chiarito che era intenzione di questa amministrazione continuare questo lavoro di riqualificazione, pertanto chiedo di sapere se effettivamente è stato presentato un progetto e quali strade vi rientrano in tale progetto. Grazie. Risponde lei Sindaco? Prego. Sì ok. Allora andiamo per ordine. Strade rurali. Gli interventi sono stati realizzati, devono chiudere e fare poi la consegna definitiva perché ci sono ancora piccole questioni da sistemare, però in gran parte gli interventi come i cittadini che percorrono le strade rurali possono verificare, sono stati interventi importanti che hanno risolto situazioni molto critiche che c'erano su quelle strade appunto come si diceva. È chiaro che 35 km di strada rispetto ai bisogni diffusi che ci sono sulle strade rurali non risolvono definitivamente il problema, però è un contributo importante. Nella scelta poi dei percorsi, delle strade, dei punti sono state fatte delle valutazioni tecniche diciamo dallo studio di progettazione anche in base al grado di ammaloramento dell'asfalto, in base anche al traffico diciamo rurale che si verifica lungo quei percorsi e certamente siamo soddisfatti di questo primo intervento, di questo primo bando e mi collego a questo dicendo che ovviamente è intenzione di questa amministrazione continuare sul risanamento delle strade sia urbane, cittadine, che extraurbane e rurali diciamo spostandoci oltre. E infatti abbiamo partecipato a quel bando regionale di cui si diceva candidando le seguenti strade. La continuazione di via Francavilla, laddove voi sapete che via Francavilla è stata per il tratto urbano rifatta, riasfaltata, diciamo nell'ambito del bando strada per strada, mentre per il tratto extraurbano abbiamo candidato in modo tale da completare il lavoro, vado a memoria, credo fino al ponte, insomma fino alla territorialità di Corato perché poi dopo comincia a Ruvo, va bene. Poi abbiamo candidato Bracco, la via di Bracco che necessita di interventi importanti, voglio ricordare che su Bracco noi abbiamo fatto un intervento diciamo epocale lo scorso anno di potatura della pineta che non avveniva da vari decenni e quindi anche di messa in sicurezza perché sono stati abbattuti degli alberi che erano stati dichiarati pericolanti, c'era pure la procura della Repubblica lì su quella questione e abbiamo sanato completamente tutto e ora per il bando regionale abbiamo candidato via Bracco anche, poi inoltre abbiamo candidato via la Macupa che è un'altra strada diciamo che necessita di interventi, qual è l'altra? Via, 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 fatemi ricordare, Bracco, la Macupa, Francavilla e la via, via Maglioferro, la via di, chi scende di Cannillo? Maglioferro, come si chiama? Maglioferro dovrebbe essere, ecco vado a memoria, e via Maglioferro anche l'altra, però non vorrei sbagliare su quella ultima strada, dovrebbe essere quella, va bene. Quindi ora siamo in attesa dell'estero di questo bando, quel bando chiedeva anche di porre le priorità, cioè quale per prima, quale per seconda e eventualmente a scalare. Noi mettemmo sicuramente come prima strada quella di Bracco, così andiamo a completare il lavoro e poi insomma le altre che vi ho detto. Va bene? Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, facendo una corso contro il tempo, sono state acquistate le bici, sono state, fu fatto l'avviso pubblico a cui hanno risposto le aziende agricole che sono state poi dagli uffici selezionate, ne sono state, se vado a memoria, selezionate due, alle quali sono state portate poi queste biciclette, lì dove si deve, si sta realizzando diciamo lo stallo per le bici, perché poi quelle diventano stazioni diciamo di partenza e di arrivo per le escursioni ciclabili. E quindi si è in fase adesso di concludere tutto l'iter per poter poi diciamo avviare, diciamo rendere fruibile e disponibile al cittadino queste attività. Voglio ricordare che il GAL si è complimentato col Comune di Corato per il tempismo e per aver essere riuscito di fatto a spendere tutte le somme. Grazie Sindaco, prego consigliera d'Introno se vuole replicare. Grazie, grazie Sindaco per la risposta. Sono contenta sicuramente che si sia dato un seguito e quindi si stia continuando nel lavoro di riqualificazione di tutte le strade rurali ed extraurbane, è un tema sempre molto sentito da tutta la popolazione. Allo stesso tempo non posso nasconderle dispiacere perché sempre in occasione del Consiglio Comunale dell'aprile 2022 lei ci aveva comunicato che in commissione consigliare si sarebbe discusso dell'argomento e magari insieme si sarebbe fatta anche una valutazione di tutte le strade oggetto di questo lavoro di riqualificazione, però anche stavolta così non è stato, ma posso anche comprendere perché i tempi ristretti alle volte impongono di andare avanti senza un minimo di coinvolgimento e partecipazione. Mi spiace soltanto che questa ormai sia diventata la regola e non l'eccezione. Aggiungo anche un'altra cosa, sono stata contattata da alcuni cittadini, l'area murgiana ormai, penso che sia sotto gli occhi di tutti, è sempre più considerata da tutti un bene prezioso e è sempre maggiore la cura e l'attenzione che tutti i cittadini stanno riservando per questa nostra parte del territorio. Tantissimi sono stati gli eventi che si sono organizzati, altri se ne organizzeranno ancora, quindi a maggior ragione è nell'interesse dei cittadini preservare quest'area, riqualificarla e renderla il più possibile fruibile e vivibile. È stato molto apprezzato il bando relativo alla mobilità sostenibile e allo stesso tempo è un vero peccato aver constatato da parte di questi cittadini che l'intervento è stato concluso ormai da tempo, se non ricordo male mi hanno riferito che a marzo le biciclette sono state già consegnate, le velo stazioni sono state già realizzate, l'impianto di alimentazione neanche ed è tutto lì bloccato, le biciclette sono lì ferme, inutilizzate, sono passati già un bel po' di mesi senza contare che le biciclette comunque erano arrivate addirittura già l'anno scorso e sono ferme, inutilizzate, ecco perché magari questa velocità o meglio questa attenzione allo tempo stesso velocità la si deve destinare per interventi che sono stati già avviati, già iniziati ma che non so per quale ragione sono stati un attimo lasciati in stand by bloccati, quindi sindaco io spero che nel minor tempo possibile effettivamente queste biciclette che sono lì, ripeto, inutilizzate, piene di polvere, mi hanno inviato delle foto, effettivamente è un colpo al cuore constatare che un bene pubblico resti lì inutilizzato e senza un minimo insomma di cura proprio perché non si possono utilizzare, grazie. Grazie, allora consigliera di trono, rispetto alle condizioni delle biciclette era un'altra interrogazione che andava, sì, prego, prego sindaco, prego. No, mi ero consolato all'inizio, poi devo dire veramente, la consigliera di trono è ormai una gioia, veramente, una volta tanto che era contenta, vabbè, e comunque no, non c'è perdita di tempo, nel senso che innanzitutto ecco c'è la necessità di collaudare le stazioni di bici, le velo stazioni, diciamo, di cui stiamo parlando, le postazioni meglio, quindi devono essere sottoposte a collaudo e poi deve essere approvato il regolamento di gestione delle velo stazioni e della frizione di queste biciclette e questo avviene anche d'intesa con il GAL e ci sono le tempistiche, non solo, diciamo, considerate anche che, diciamo, questi bandi sono, diciamo, fra due comuni, Corato e Andrea, perché il GAL è costituito da Corato e da Andrea, quindi quello che può sembrare, diciamo, come dire, perdita di tempo, lentezza, diciamo, sono le tempistiche della burocrazia purtroppo, però vi sto dicendo che invece i soldi li abbiamo spesi, li abbiamo spesi bene e a breve avremo un servizio interessante, importante, approfitto anche per dire, ecco perché fa parte di questa questione, che ci si sta muovendo anche per la velo stazione di Corato, quella grande che sta vicino alla stazione che invece è chiusa da qua, non è mai stata inaugurata di fatto, perché mancava un piano di gestione. Abbiamo fatto inserire la velo stazione nell'ambito delle ciclovie del parco nazionale dell'Altamurgia, perché così sarebbe rimasta una cattedrale nel deserto e il parco nazionale, quando io mi sono insediato, aveva già approvato le ciclovie, ma Corato non c'era, quindi abbiamo ottenuto una modifica, diciamo, di quella mappatura, di quella, diciamo, geografia e quindi è stata inserita a Corato la velo stazione e anche, diciamo, si è aperta la strada della cogestione insieme al parco nazionale dell'Altamurgia per la velo stazione, che se no diventa problematica e quindi con il parco si sta lavorando in tal senso e questo porta via delle tempistiche, va bene, perché, diciamo, sono vari i comuni, tra cui anche quello di Ruvo, per esempio, che rientra all'interno delle ciclovie del parco e anche Andra, infatti anche a Ruvo e Andra, Andra non lo so, a Ruvo non è ancora, diciamo, attiva la velo stazione. Stiamo inoltre lavorando anche perché all'interno di questo accordo comune di Corato Parco Nazionale dell'Altamurgia è anche aperta una trattativa con ferro-tranviaria, diciamo, stiamo anche lavorando perché poi, diciamo, quel luogo diventi anche, diciamo, cogestito, diciamo così, da realtà del territorio che si occupano di mobilità sostenibile in modo da non diventare semplicemente un parcheggio di biciclette ma qualcosa di più interessante, quindi, diciamo, che a breve avremo anche delle novità su quella velo stazione e su quegli stalli per bici di cui abbiamo parlato prima, nient'altro. Consiglia Dintrono, se vuole replicare, prego. Sì, grazie. Quindi ci sono ulteriori passaggi, diceva il Sindaco, l'approvazione di un regolamento, non ho compreso chi lo dovrebbe approvare, questo regolamento, passa in commissione, non ho... non è chiaro questo passaggio, chiedo scusa. Ok, quindi se magari diamo una certa priorità a questo intervento, proprio perché, ripeto, la struttura è lì, ormai è stata terminata ed è sempre più evidente la voglia dei cittadini di dare un seguito a questo intervento che è stato molto apprezzato. Grazie. Grazie. Consigliere, prego, consigliere Mascoli, con la sua seconda interrogazione. La mia seconda interrogazione è dovuta alla lettera che ho ricevuto dal dirigente del quarto settore, che è una lettera un po' piccata, ma io non avevo nessuna intenzione di offendere, assolutamente. La mia era una constatazione negli interessi e principi dei cittadini, di tutti gli utenti che operano nel settore dell'edilizia, in tutti i settori che comunque convergono verso l'edilizia. E quindi, diciamo, tono piccato che è riottoso, non mi sta bene, scusazio non petita, accusazio manifesta, e voglio già dire che da parte mia abignura verbis, cioè non si vuole offendere nessuno. Però devo necessariamente, ulteriormente, ribattere la lettera di riscontro ricevuta dal dirigente del quarto settore, perché speravo che mi rispondessi insieme con l'assessore Balesano, forse non si è a conoscenza. Chiedo scusa però, consigliere, siamo al momento delle interrogazioni. L'interrogazione lei la pone al sindaco, perché il dirigente non c'è. Va bene, va bene. Quindi o è un'interrogazione al sindaco, oppure io non posso... È un'interrogazione al sindaco di conoscenza, perché il sindaco non... Non è di conoscenza, l'interrogazione, cioè, significa... Sì? Mi rivolgo al sindaco, diciamo, perché non è presente il dirigente. E no, ho capito, però il sindaco come fa a risponderle? Non risponde adesso, non deve rispondere adesso. Va bene, faccia l'interrogazione al sindaco. Da me, per questo ho detto, non c'è la necessità di rispondere adesso, c'è tutto il tempo, perché non è che è impellente, c'è pericolo di morte, non c'è... Va bene, faccia la sua interrogazione. Quindi, il dirigente del quarto settore del Comune di Ricorato, e quindi devo rispondere punto per punto alla lettera del 3 agosto scorso, rilevando quanto segue. Ecco, sorprende sapere che in uno Stato democratico e in un sistema politico rappresentativo, un consigliere comunale non possa chiedere chiaramente a un dipendente comunale, poiché sconfinerebbe dalle competenze dell'organo al quale appartiene. Quindi io sono stato eletto dai cittadini e do conto ai cittadini, chiunque cittadino. Quindi, i cittadini e i loro rappresentanti non hanno alcun diretto di avere chiarimenti o informazioni? Siamo quindi nel pieno di una visione bolshevita dell'apparato comunale? Una burocrazia che risponde solo a se stessa e che il resto del mondo deve accettare subinamente senza interferire con l'esclusione di competenze gestionali del dirigente? Beh, così funziona in un sistema cinese o rosso o nei sistemi cileni di Pinochet. Va bene? E quindi, guai a interferire, chiedere chiarimento, cercare risposte alle istanze che vengono dai cittadini. Un'affermazione che si commenta da sola, è antidemocratica e autoreferenziale. Il famoso CDU, che non è un partito politico, è certificato di destinazione urbanistica, va bene? Così lo afferma il dirigente. Non è un banale certificato, è certamente che non è un banale certificato, ma sarebbe interconnesso con la lottizzazione abusiva, cioè la trasformazione del territorio in maniera illegale a scopo edilizio. Quindi, secondo questa interpretazione, dal rilascio o meno del certificato, dipenderebbe il configurarsi del reato, o comunque il certificato, contribuirebbe alla realizzazione del reato stesso? Chiedo. Il che mi vuole precisare non è esatto. Il certificato di destinazione urbanistica non ha natura provvedimentale, non è un provvedimento, ma meramente dichiarativa di sostituzioni giuridiche già esistenti. Risponde a posizioni di interesse legittimo in capo ai privati richiedenti e comporta l'obbligo di prevedere in capo all'amministrazione. Non sta in cielo né in terra questa funzione del certificato, quale deterrente o quale punizione infritta in caso di relazione da parte del dirigente di irregolarità, ove dal riscontro dei documenti o dall'esame della cartografia. In sede di rilascio, i certificati di destinazione urbanistica emergono elementi tali da individuare una lottizzazione abusiva e il dirigente, in quanto pubblico ufficiale, ha invece il dovere di denuncia del reato alla Procura della Repubblica. Pena la commissione da parte sua, questa volta, del reato di omissioni di atto d'ufficio. Reato penale. Quindi la funzione di prevenzione e di controllo avverso le lottizzazioni abusive, che indubbiamente il certificato di destinazione urbanistica può avere, non si realizza attraverso il mancato rilascio dello stesso, ma attraverso altri strumenti. È previsto dal comma 7 dello stesso articolo 30 che il dirigente omette, in questo caso, nella lettera che mi fa, di richiamare, e cioè l'obbligo di notifica ai proprietari e la sospensione della lottizzazione o delle eventuali opere in corso, oltre ad altri ulteriori provvedimenti. Quindi il CdU va comunque rilasciato perché il terzo comma dell'articolo 30 dice e recita testualmente che il certificato deve essere rilasciato senza ma e senza se. va bene, così come recita anche il secondo il TAR di Napoli, la sentenza 766 del 2019, ove il Comune non emetta il certificato nei 30 giorni, la parte ha facoltà di produrre in alternativa una dichiarazione sostitutiva. Tuttavia, secondo i giudici del TAR, trattasi di mera facoltà del privato, che invece può insistere legittimamente nel pretendere il suddetto rilascio. Pertanto il TAR ha pronunciato l'illegittimità del silenzio da parte del Comune di fronte alla reiterata richiesta del privato, in quanto sussiste l'obbligo di provvedere sull'istanza avanzata per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e di concludere il procedimento avviato dal soggetto privato. E citiamo inoltre la sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, la sentenza 252 del 2021, che ha riconosciuto la sussistenza del danno erariale nei confronti del tecnico comunale per il mancato rilascio del CdU, circostanze che determinano un aggravio di spese per il Comune, a seguito del giudizio intravreso dal privato. E evidentemente da questi vinto. E spiace rilevare che questa affermazione della Corte dei Conti sia un metodo quasi intimidatorio che emina la serenità dell'operato del dirigente, come da lui affermato. Consigliere, deve concludere. Quindi pregheremo la Corte dei Conti di evitare di fare queste cose. La Corte dei Conti viene delegittimata dal dirigente. Infine, prendiamo atto che il nostro regolamento comunale, e qui è colpa nostra e colpa mia anche, eh, infine prendiamo atto che il nostro regolamento comunale, provato in buona fede dalla maggioranza, e su questa occorre anche, ma è rare umano, perseverare e diabolico, ma anche fare mia colpa, per non avere preteso chiarimenti e approfettimenti, prevede illegittimamente che solo il proprietario o chi ha un altro diritto connesso ad attività edilizia possa richiedere il CDO. Il che non è assolutamente nel testo e tantomeno nello spirito del testo unico, dove non sono indicati questi limiti. Consigliere, deve concludere. Siamo ben oltre i tempi consentiti. No, 15 minuti. No, consigliere, 5 minuti. Eh, va bene. Quindi, praticamente, voglio dire, cerchiamo di andare incontro alle persone, perché nei comuni viciniori, nei metrofi, non si fa tutta questa affastellata di burocrazia, che fa perdere ulteriore tempo, e qui c'è anche un rischio. Questa è stata sempre una città che è stata, diciamo, in un certo modo incardinata, imperniata nell'attività edilizia e tutte le attività collaterali connesse. E in questo modo io credo che sia necessario e utile, se no è quasi un'accusa al passato che facevano cose illegittime. Consigliere, deve concludere. Io concludo dicendo, insomma, andiamo incontro alle esigenze dei cittadini, anche perché comprendo bene, ho detto prima, che abbiamo un testo di... Mi scusi, sta raddoppiando i tempi. È una questione di rispetto. Detto questo, io le chiedo, gentilmente, siccome mi pare di capire che con questa risposta del dirigente si sente leso nei suoi diritti... No, io ho detto, non era un'accusa, non era un'accusa. No, no, si sente leso nei suoi diritti... Non era un'accusa. Io ho spiegato prima che la mia non era un'accusa, la mia è sempre un'accusa costruttiva. Va bene, le stavo facendo una proposta. Se vuole fornirmi copia, perché io non ne sono in possesso, della lettera del dirigente, provo anche a leggerla per capire se, insomma, i diritti dei consiglieri comunali sono stati tutelati e sarà mia cura al limite favorire anche un incontro chiarificatorio... Sì, ma è sempre, ripeto, teso a creare un'azione costruttiva. Hai inteso, ho inteso. Non è polemica. È proprio per questo che le sto dicendo. È questa l'intenzione, non c'è mai un'intenzione distruttiva. Non è mai bello quando, insomma, in questi botte e risposta ci si manchi di rispetto. Quindi, dovendo io tutelare anche le vostre prerogative, vorrei leggere questa lettera per capire se effettivamente non ce l'ho, non ero, perché c'è il dirigente non ha messo anche me in copia... Non ci fu ben chiarito quando facemmo la commissione. Va bene, consigliere, allora, se vuole fornirmi la lettera, magari poi la leggerò, perché laddove fossero state, insomma, dovessi intervenire, insomma, per tutelare la sua figura di consigliere comunale, mi attivo. Diversamente promuoverò un incontro con il dirigente chiarificatore. polemiche sterili, inutili. Io addirittura propongo al presidente della commissione, dottor Arsale, di rifare un'altra commissione e dichiarire questa situazione. Era un'interrogazione, consigliere, grazie. Grazie. Consigliera d'Introno, avevo inteso che quelle fossero due interrogazioni. No, era unica, riguardava l'intero progetto. Che, prego. Mi scusosi se non ho fatto direttamente la seconda interrogazione. Non volevo interrompere sì il consigliere, grazie. Dunque, mi rivolgo all'assessore al bilancio, il dottor Gennaro Sciccioli, assessore per ben tre anni di fila. Purtroppo abbiamo approvato il bilancio di previsione con un notevole e ingiustificato ritardo. Quest'anno ci siamo superati, abbiamo approvato il bilancio a luglio, quindi oltre metà anno. Io chiarisco ancora una volta che il bilancio di previsione, unitamente a tanti altri documenti, quali il DUP e altri, è il più importante strumento di programmazione. Quindi, cosa significa? Che ogni comune, a fine anno, deve decidere in che modo impegnare le proprie risorse per l'anno successivo. Quindi, come spendere i soldi, a quali interventi dare la priorità, quali settori prediligere rispetto ad altri e tutta una serie di altre decisioni che ovviamente incidono su di una città intera. Dicevo che purtroppo per tre anni di fila questo adempimento è avvenuto ben oltre il termine la scadenza naturale, che sarebbe appunto il 31 dicembre. È facile intuire che una programmazione seria che deve poi risultare efficace non lo può essere se la si fa a luglio. Dal punto di vista politico, invece, l'aspetto che è sicuramente più a deluso è che tutte queste decisioni non solo sono state prese in ritardo, ma sono state prese anche a porte chiuse. Io condivido quanto detto dal consigliere Mascoli, ossia che mi sembra che ci siano consiglieri di serie A e consiglieri di serie B, consiglieri che hanno la fortuna di conoscere determinate decisioni, di partecipare a determinate decisioni, consiglieri che invece arrivano in consiglio e devono ricevere il piatto e la minestra pronta, preparata da altri. Non siamo riusciti a partecipare noi consiglieri, men che meno ha partecipato a tutti questi percorsi la cittadinanza. Quindi la più grande promessa che è stata tradita, che è stata, si dico bene, proprio appunto tradita è quella della partecipazione. Io ho una domanda che rivolgo un po' a tutti. Ci siamo chiesti cosa vogliono i cittadini di Corato? Qual è secondo i cittadini il settore o semplicemente l'intervento a cui questa amministrazione dovrebbe dare massima precedenza, visto che ci restano due anni? Ci siamo chiesti se i cittadini di Corato sono soddisfatti di quello che è stato fatto fino ad oggi? No, non ce lo siamo chiesti perché, appunto, ripeto, non vi è stato in questi primi tre anni di tempo neanche un minimo di partecipazione. Assessore, lei lo sa, ne abbiamo parlato più volte, il tema della partecipazione mi è molto caro, così come posso affermare con certezza che anche lei ha una grande sensibilità sul tema. Gliel'ho sempre riconosciuto. Quindi le chiedo se ha già stabilito un cronoprogramma per il processo di approvazione del bilancio 2024 e, inoltre, ricordo che mesi fa aveva pubblicamente dichiarato che aveva in mente di organizzare un evento, non so nello specifico di cosa si tratta, se effettivamente ci sarà modo per organizzare questo evento per il bilancio 2024. Grazie. Un attimo solo, Assessore Ciccioli, un attimo solo. Allora, mi corre l'obbligo di precisare che da regolamento, articolo 47,1, l'interrogazione è sempre una richiesta rivolta al sindaco in forma scritta o verbale. Se il sindaco poi ritiene, può delegare alla risposta uno degli assessori oppure può essere presentata, così come dice l'articolo 47 al comma 12, è possibile rivolgerla al Presidente del Consiglio Comunale solo su fatti inerenti la sua stretta competenza istituzionale. Pertanto io devo sempre chiedere al sindaco, anche se lei si è rivolta all'Assessore Ciccioli, se risponde lei o se dà la risposta all'Assessore Ciccioli. Sì, risponde lei, sindaco? Beh, se posso parlare. No, dico, risponde, chi risponde a questa interrogazione? Rispondo alla domanda. Non l'ho fatto con gli altri assessori, mi sembra corretto. Perfetto, quindi risponde lei, prego. Io non se ne abbia ovviamente Gennaro, assolutamente. Allora, innanzitutto, per un consigliere di maggioranza, la partecipazione è innanzitutto partecipare alle riunioni di maggioranza. Ovviamente, se non si partecipa alle riunioni di maggioranza da quasi un anno e mezzo, è chiaro che non si conoscono poi i processi così come si determinano e si evolvono. Quindi, l'approvazione dei precedenti bilanci è stata, diciamo, un'approvazione assolutamente regolare, fatta alla luce del sole e respingo, diciamo, con forza, il termine ingiustificato, ritardo. Innanzitutto teniamo presente che il governo ha, diciamo, prorogato l'approvazione del bilancio prima al 30 giugno, al 31 luglio e ora credo al 30 settembre. 15 settembre, quindi è un fatto, diciamo, governativo. E ricordo che i comuni, diciamo, ben attrezzati hanno approvato il bilancio a luglio, se non ad agosto, cito i comuni di Bari e tanti altri comuni a noi vicini che, diciamo, funzionano anche bene. E noi siamo stati dentro una tempistica, invece, diciamo lodevole, lodevole per le traversie che abbiamo attraversato nei mesi scorsi nella ragioneria, per le traversie che abbiamo attraversato a causa di quel ricorso fatto da una parte dell'opposizione che punta a paralizzare l'attività amministrativa, certamente non a vantaggio della città. E nonostante tutto questo, nonostante il vuoto anche che si è a un certo punto creato e la paralisi che si è a un certo punto creata nella ragioneria, diciamo, a questo punto mi corre l'obbligo anzi di ringraziare chi, diciamo, rimanendo all'interno della ragioneria, ha dovuto con abnegazione lavorare. Abbiamo qui la dottoressa Ruffo, per esempio, che ringrazio per l'impegno che ha profuso, ma insieme agli altri, insomma, tutti i dipendenti dell'ufficio di ragioneria, in una situazione veramente di grave disagio. Quindi abbiamo approvato il bilancio, diciamo così, in modo lodevole direi, lodevole. E abbiamo garantito alla città, diciamo, cose importanti, dai servizi, diciamo, essenziali, fino a, diciamo così, cose di più alto rango che sono essenziali alla stessa maniera. Abbiamo vissuto un'estate, un cartello di eventi estivi, diciamo così, invidiato dal territorio vasto. Quindi quel disagio che si è verificato dalla ragioneria non ha determinato lo sbandamento dell'azione amministrativa. Al contrario, abbiamo tenuto fermo il timone e dritta la rotta. Sia chiaro. Dritta la rotta. E così faremo rispetto alle ulteriori tappe di chi cerca di bloccare l'azione amministrativa, di paralizzare la città per delegittimare chi governa. Non ci riusciranno. Chiaro. La partecipazione, quindi, innanzitutto, è un dovere del consigliere comunale. Prima cosa. Soprattutto del consigliere comunale di maggioranza, che ha, a mio parere, diciamo, sul piano etico, dell'etica della politica, che ha il dovere di partecipare alle riunioni. Poi ci sono molti modi di ascoltare la città. Innanzitutto io sono sempre in giro, sempre. Incontro centinaia di concittadini e di concittadine. E sono sempre disponibile all'ascolto. Di ore, di ore, di giorni, di mesi, di anni. I nostri cittadini vogliono una città pulita, una città vivibile, una città sicura, una città in cui sia garantita parità di diritti. E su questo stiamo facendo una dura battaglia. Dopodiché... Le devo chiedere di concludere, sindaco. Concludo. Dopodiché, l'assessore Sciccioli sta alacremente lavorando, già dal mese di agosto, come i consiglieri di maggioranza sanno, come abbiamo proprio ieri sera, nell'ultima riunione definito, per un calendario, che quest'anno abbiamo le condizioni di poter fare, che consentirà a quel tipo, che è solo un tipo, che è solo una forma di partecipazione, va bene, relativa all'approvazione del bilancio di previsione. Quindi, concludo, perché il tempo è scaduto e a mio parere le tempistiche vanno, come giustamente la Presidente fa, rispettate, e quindi a breve verrà fuori un calendario degli appuntamenti pubblici per discutere insieme alla città il bilancio partecipato. Grazie. Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere Adintrono, per la replica. Qui ormai abbiamo superato il limite, Sindaco, abbondantemente. Presidente, io mi aspetto da lei un intervento, perché io sono stanca di ascoltare queste sfuriate da parte del Sindaco, ingiustificate. Ma come si permette, Sindaco? Ma come si permette? La dobbiamo smettere, Presidente, mi rivolgo a lei, lei è garante di tutto il Consiglio Comunale. Un Consigliere Comunale che presenta un'interrogazione, che pone delle domande legittime, dopo tre anni di ritardo deve essere accusato di ostruzionismo? Io, Presidente, questo atteggiamento non lo accetto più. Sono mesi, se non anni, che il Sindaco ha questo atteggiamento nei confronti dei consiglieri comunali, che non abbassano la testa e non si fanno andare bene tutto ciò che lei dice. Che mi interessa degli incontri che si fa a lei con le persone per strada? Che partecipazione è questa? Ma dove siamo? Dove siamo, Sindaco? Presidente, il Sindaco più volte ha fatto questa accusa non solo nei miei confronti, ma nei confronti di altri consiglieri. L'amministratore unico dell'Asipu ha accusato il consigliere Mascoli di aver bisogno di un trattamento sanitario obbligatorio. Un dirigente ha accusato un consigliere comunale di schizofrenia. Lei, in tutte queste occasioni, è sempre stata in silenzio. Presidente, io da lei non l'ho accetto più. Chiaro? Allora, consigliera d'Introno, innanzitutto le chiedo gentilmente di abbassare la voce perché ci sento. Consigliera, io l'ho ascoltata, se mi fa la gente... Vabbè, abbandona Laura e le rispondo ugualmente. Non dia per scontato che io sia rimasta in silenzio, rispetto a determinate espressioni che sono venute fuori in questo consiglio comunale, mi sto solo riservando di capire se siano avverbale o meno, rispetto alla lettera di cui faceva accenno oggi il consigliere Mascoli, ho proprio chiesto copia, quanto alle interrogazioni e quindi alle parole che la consigliera usa nei confronti del sindaco, magari in altre occasioni quando ha parlato, non lo so, di cerchio magico, ora mi vengono in mente altre parole, ho il sindaco che parla di ostruzionismo, onestamente non leggo offese alla persona e quindi credo che siate professionisti, persone che vengono in un'aula, è un'interrogazione, ci sono delle domande, ci sono delle risposte, ci sono dei toni che si alzano, perché se dovessi poi intervenire su tutte le parole che vengono dette in generale, non ne usciremo più, auspico sempre buonsenso da parte di tutti. Rispetto ad altri episodi invece, dire che io sia rimasta in silenzio insomma, prima di sapere quello che sto facendo, mi pare ingiusto, però lo accetto, le critiche fanno parte, sono il sale della politica. Possiamo andare avanti? Ha chiesto la parola il consigliere Mastrodonato, prego. Si sente? Ah ok, grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Io volevo porgere una domanda al sindaco, parlando di sicurezza, visto che i toni si sono riscaldati. Tempo fa parlavamo, credo l'anno scorso, avevamo fatto una commissione dove il comandante dei vigili urbani aveva detto che doveva organizzare un turno con la pattuglia nel centro storico. Io sinceramente ho avuto diverse lamentele da esercenti che si sentono un po' obiettivamente un po' soli e trascurati e hanno anche paura. Io personalmente mi sono trovato di fronte a un paio di situazioni, quest'estate siamo usciti, chiaramente un paio di situazioni dove veramente c'era da alzarsi dai tavolini e da andarsene. Volevo sapere, quel tipo di organizzazione che i vigili urbani avevano detto che volevano mettere in atto, ovvero avere il centro storico un po' più tra virgolette controllato, anche perché ci sono biciclette elettriche che girano, vanno contro senso, in ogni momento della serata spacciano. E quindi volevo capire un attimino come si stava muovendo da questo punto di vista. Grazie. Prego, Sindaco. Bene, allora, per quanto riguarda la polizia locale, i turni sono stati rafforzati e anche aumentati, perché ci si sta muovendo anche all'interno di un progetto, diciamo così, finalizzato alla repressione dello spaccio. Ovviamente ci sono poi tutta una serie di interventi su cui è opportuno mantenere la riservatezza, è chiaro, però posso certamente dire che d'intesa con la prefettura, perché un progetto approvato con la prefettura, è garantita oggi anche in altre fasce orarie che non sono solo quelle, diciamo, stabilite da contratto nazionale, la presenza, appunto, di vigili urbani, della polizia locale, in città e, come dice lei, il consigliere, nell'ambito del centro storico soprattutto. Però voglio anche integrare, voglio dire che nel mese di agosto, prima della pausa ferragostana, si è tenuto in prefettura su mia richiesta il Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, va bene, per cui all'interno di quel comitato si è deciso un rafforzamento, diciamo, della presenza delle forze dell'Ordine in città, che ha avuto un seguito immediato già nei giorni successivi, fino ad oggi. Per cui abbiamo in città la presenza del reparto prevenzioni crimine, che viene da Bari, orientativamente, dalle ore 16, diciamo, fino a notte inoltrata, fino alle 3 di notte e quant'altro. Ovviamente anche qui gli orari hanno una giusta elasticità per non essere poi scontati, è chiaro. Così come è garantita la pattuglia notturna, quotidiana, da parte della Polizia di Stato, di Stato e a giorni alterni da parte dei carabinieri, va bene, oltre anche alla presenza della Guardia di Finanza. Quindi diciamo che la narrazione di una città, diciamo così, in balia di se stessa è una narrazione ingiusta, soprattutto a fronte del lavoro che le forze dell'Ordine fanno, pur nella consapevolezza che ci sono, come io stesso ho detto, rappresentato al prefetto, ci sono una serie di criticità che però vanno ben indagate nella loro natura per essere poi effettivamente scardinate. Quindi, diciamo, le problematiche, le criticità ci sono, ma c'è anche una presenza dello Stato che va riconosciuta anche, insomma, come dire, per riconoscere il lavoro che le forze dell'Ordine fanno nel nostro Comune e più in generale nel nostro Paese. Prego, consigliere Mastrodonato, per la replica. Grazie per la disponibilità. Però io credo che, soprattutto la sera, a me non credo ci sia bisogno veramente di una pattuglia che vada a piedi, perché obiettivamente io sono uscito tre, quattro serie di seguito e sono stato in giro per il centro storico, non ho visto nessuno. Forse bisognerebbe magari fare anche una commissione, invito a fare una commissione con i vigili urbani, perché secondo me la sera loro dovrebbero pattugliare il centro storico. Cioè, io obiettivamente, non perché non voglio fare polemiche, attenzione, però non ne ho visti, non ne ho visti. Cioè, non ho visto una pattuglia di vigili urbani nel centro storico. Allora, mi invito, almeno anche come orari, cioè, almeno fino a mezzanotte, soprattutto questo periodo che fa ancora caldo e si sta bene la sera, cerchiamo di essere un po' più presenti. Questa è la mia, diciamo, la mia richiesta. Tutto qua. Grazie. Grazie. Prego, consigliere Bovino. Avevo segnalato in alcuni consigli comunali scorsi la situazione di una pineta presso la strada di Bosco Comunale, Fungistierno per l'esattezza, mi era stato detto di un intervento molto, molto immediato. Si aspettavano i tempi del bilancio. Ad oggi, dopo ennesime PEC e altre segnalazioni, la pineta non è stata affatto potata. A questo si aggiunge anche la crescita dell'erba, per cui almeno penso che l'erba venga trinciata per una questione di sicurezza, perché poi dopo non ci si dica che solo magari i consiglieri di minoranza incontrino cittadini che magari segnalano situazioni poco, che raccontano una narrazione diversa, per usare le sue parole, perché la narrazione della città che noi riscontriamo ogni giorno è una narrazione non soggettiva, ma è una narrazione oggettiva, lo dicono gli articoli. Quindi tutto ciò che ha detto su sicurezza, bilancio e quanto altro, perché io a differenza sua non faccio né comizi né foto quando incontro le persone, mi limito a dire, ahimè, cercate di segnalare non agli assessori o ai consiglieri, cercate di segnalarlo agli uffici, per cui non è che la partecipazione è a vantaggio solo dei consiglieri di maggioranza. La partecipazione è uno stile, cosa che questa maggioranza ancora non ha. Poi vorrei segnalarle ancora una volta la situazione di una criticità, no questa, la prima non la prenda come benissimo, sì, insomma, è qualcosa che viene dal passato. Vorrei segnalarle la situazione della zona Viatrani, in particolar modo subito dopo la rotatoria, perché alcuni cittadini mi hanno segnalato che al passaggio dei mezzi pesanti, operatori, macchine operatrici della SAM, si crea qualche particolare disagio. Ecco, vorrei suggerire all'assessore o ad altri di prendere in seria considerazione l'apertura di un cancello magari su Viatrani, in maniera tale da far defluire il traffico e dei mezzi pesanti ed evitare situazioni di pericolo anche per la città, perché vedersi in zone demograficamente piuttosto intense, mezzi pesanti potrebbe essere pericoloso. Allora è meglio evitare se c'è questa possibilità da parte degli uffici. Altra situazione che mi è stata segnalata, di quale è assessore all'urbanistica, mi è stata segnalata dai tecnici e quindi un notevole ritardo per quanto riguarda il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica. Lei sa benissimo l'importanza che tali certificati rivestano all'interno di varie procedure, ecco, anche di acquisto, di vendita, contrazione mutua e quant'altro, perché il parametro di un'efficienza, di un'amministrazione, non si basa sui comizi o sulle chiacchiere vendute al vento, ma si basa su questa narrazione che è fatta di tempi, di riscontri e di risposte, ecco, gradirei ascoltare qual è la situazione per cui questo ritardo in questo momento crea documento alla cittadinanza. Grazie. Prego, Sindaco. Per quanto riguarda la questione di quei pini di cui si faceva prima riferimento, è in corso la procedura di affidamento e comunque si deve aspettare che il clima si rinfreschi perché, diciamo, i pini non possono essere potati con il caldo, se no seccano, perdono molta linfa. Quindi a breve saranno potati e comunque stanno chiudendo la procedura di affidamento. Per quanto riguarda lo sfalcio dell'erba, sicuramente è nel programma. Quest'anno abbiamo avuto una crescita di erba per via delle condizioni climatiche e veramente continua, ma avete potuto vedere che la situazione è sistematicamente sotto controllo, diciamo, per cui veramente, anzi, esprimo soddisfazione per la qualità del servizio che Ansipu ha garantito in questo settore. Per quanto riguarda il ritardo relativo ai certificati di estilazione urbanistica dipende da due motivi. Uno cronico, la carenza di personale che abbiamo ancora negli uffici. E l'altro congiunturale, il fatto che abbiamo avuto il periodo di ferie per cui a fronte di quella carenza c'erano anche i dipendenti in ferie e questo ha determinato una forma di ritardo. Però, voglio dire, diciamo, anche per spezzare una lancia in favore, proprio, diciamo, l'ufficio urbanistica ha, nel corso di questi anni, veramente sbloccato le situazioni che erano, diciamo, incancrenite da molto tempo, da anni addirittura, diciamo, per cui si è velocizzato tutto. Certamente, insomma, poi si possono anche determinare in modo congiunturale delle criticità, ma anche è importante continuare nella politica assunzionale che abbiamo intrapreso. Grazie. Prego, Bovino, se vuole replicare. Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda il discorso del cancello, magari, attendo, vuole dare le risposte, così? L'apertura, l'apertura di un ingresso magari su Viatrani onde evitare problemi su Viatrani. Sì, ripeta, ripeta il quesito, così? L'ha preso, l'ho detto, l'apertura di un ingresso su Viatrani per defluire il traffico invece di, sulla zona Viatrani, quartiere Lama di Grazia, invece di rottarlo su Viatrani, i mezzi operatori della Samba. uno sbocco. Sì, non è, in realtà, non è un'interrogazione, non è, è una segnalazione, un suggerimento, proprio perché, insomma, qui bisogna sapersi un po' districare tra quello che ci viene segnalato perché non vorrei che fosse un peccato di lessa maestà. Sindaco, io non sono d'accordo con lei, mi dispiace, perché i fatti raccontano altro. La pineta, quindi la potatura dei pini e la trinciatura dell'erba, i pini, sì, non vengono potati col caldo, ma se avessimo avuto un bilancio, quindi inutile stare a ripetere cose che altri hanno detto, la potatura va fatta a febbraio, marzo, aprile, motivo per il quale i cittadini le hanno inviato le PEC a far data dall'inizio di gennaio. se siamo qui a dirlo adesso è perché evidentemente il servizio non è stato fatto a differenza di quanto lei sta esternando perché deve lodare Asipu o altri. Questo non è così. La trinciatura dell'erba doveva essere già stata effettuata perché il pericolo dell'incendio non è che lo vivremo adesso, ottobre, per quest'ultima coda dell'estate, avremmo dovuto averla a giugno, luglio, agosto, altrimenti lei non avrebbe emesso l'ordinanza per i terreni incolti. Cosa facciamo? Chiediamo agli altri di curare i terreni e poi dopo lo stesso comune non provvede a tenere i suoi. Ecco perché sindaco, molte volte le parole e mi auguro che quanto prima sia data una virata a questo stile tante parole e pochi fatti e concludo con un monito per la stazione dei carabinieri mi auguro che questa amministrazione lei in primis mostri quanta più attenzione possibile perché il costo della sicurezza in questa città è piuttosto alto i cittadini a differenza di quanto lei asserisce non la pensano come lei si ha paura grazie grazie consigliere Bovino non ci sono ha chiesto la parola il consigliere Mastrodonato per la seconda interrogazione prego grazie presidente no volevo fare una domanda al sindaco a che punto è la progettualità del ponte di via Castel del Monte grazie prego sindaco ringrazio il consigliere Mastrodonato per questa domanda che mi dà opportunità insomma di esporre un po' la questione come sapete in pieno agosto anzi in piena festa patronale la domenica di San Cataldo si apre una falla sul ponte che impone ovviamente innanzitutto a noi al comune subito con l'intervento anche dalla polizia locale dell'ufficio tecnico e poi alla città metropolitana di chiudere il ponte al traffico per le necessarie verifiche a quel punto in quella stessa domenica in quelle stesse ore mi sono immediatamente attivato a chiamare la città metropolitana il dirigente ingegner La Stella e quant'altro e sopraggiunto sul posto subito il geometra diciamo reperibile perché perché la preoccupazione che immediatamente in me esorta qual era è che il ponte rischiasse di rimanere chiuso lì per mesi è vero sapete che noi molti anni fa abbiamo avuto purtroppo quel disagio per problemi strutturali e sappiamo che quando poi intervengono quei problemi c'è dietro tutta una burocrazia che porta via mesi e a volte anni basti pensare a quel restringimento che abbiamo sulla SP 231 fra Corato e Ruvo che sta lì da anni e lì è il problema di un ponticello sottostante alla strada che va smantellato e rifatto poi a farlo è molto più breve ma sta più di dieci anni lì di attesa quindi devo dire la verità che la città metropolitana diciamo si è immediatamente mobilitata nonostante che fosse la settimana delle ferie quindi e quindi almeno 15 giorni dovevano passare invece il ponte è stato chiuso la domenica ed è stato riaperto il mercoledì quindi lavori a tempi di record che cosa era successo era successo che si era verificato il cedimento dell'asfalto all'altezza di un giunto il giunto lato Corato diciamo e si è fatta la necessaria verifica che voleva appunto accertarsi che quel cedimento non fosse stato determinato da una oscillazione diciamo irregolare del ponte e quindi fatte le dovute verifiche che i tecnici ovviamente hanno fatto si è poi proceduto a ripristinare il manto stradale e a sistemare diciamo quella falla che si era aperta nel frattempo però anzi non nel frattempo molto prima nella primavera noi ci siamo mossi perché come sapete d'intesa con il gruppo Casillo è stato realizzato uno studio di fattibilità per la demolizione e costruzione del nuovo ponte perché quel ponte è un ponte del tutto inidoneo ormai rispetto alla intensità di traffico non solo automobilistico che è tanto perché collega con la zona residenziale la zona industriale ma anche con l'altamurgia con il parco dell'altamurgia che ha oggi diciamo visitatori crescenti e quindi è anche un ponte del tutto ormai inefficiente rispetto al traffico a mobilità sostenibile le biciclette i pedoni peraltro ultimamente diciamo il ponte si è ulteriormente ristretto perché furono montati quei guardrail per motivi evidentemente di sicurezza che lo hanno ulteriormente ristretto però il ponte viene quotidianamente attraversato da motori da biciclette e da pedoni con grande rischio a mio modesto modo di vedere quindi non si tratta solo di mettere in sicurezza il ponte che ovviamente deve essere sicuro però noi sappiamo che su quel ponte c'è un divieto di transito da molti anni per i mezzi pesanti credo superiore alle 2,5 tonnellate se non sbaglio non voglio sbagliare però dovrebbe essere quello il limite ciò significa che se il ponte è interdetto ai mezzi pesanti vuol dire che è un ponte comunque che ha fatto il suo tempo che comunque diciamo che non può essere sottoposto a diciamo eccessive sollecitazioni sì quindi che cosa abbiamo fatto nei mesi scorsi abbiamo diciamo chiesto e così avvenuto alla città metropolitana di inserire il nuovo ponte nel piano strategico della città metropolitana perché voglio ricordare a tutti che il ponte è di proprietà della città metropolitana non del comune e quindi ecco la città metropolitana ha accolto la nostra richiesta noi abbiamo peraltro dato a loro lo studio di fattibilità che è stato realizzato dato a loro e quindi ed è stato inserito nel piano strategico oggi il problema qual è? il problema è se qui vorrei veramente che facessimo sindaco la invito a concludere sì subito il problema è se il piano strategico metropolitano viene finanziato perché da dove nasce oggi questo problema che fine faranno i fondi sviluppo e coesione che fine fanno i fondi PNRR perché con i fondi sviluppo e coesione il piano strategico metropolitano doveva essere finanziato queste erano le programmazioni del marzo del maggio scorso oggi invece con le differenti vedute dell'attuale governo in questo caso specifico c'è il ministro Fitto che diciamo peraltro nostro conterraneo opera proprio in questo settore che cosa sta facendo che i fondi PNRR vengono orientati peraltro e quelle opere finanziate già come per esempio il nostro estramurale vengono finanziati con altri fondi probabilmente sviluppo e coesione e rischiamo che altre opere da finanziarsi come in questo caso il piano strategico metropolitano possano invece rimanere non finanziate per un danno leggevo sulla gazzetta del mezzogiorno di oggi di circa 46 milioni dico bene o miliardi giustamente milioni che so di circa 46 4,6 grazie sì per un danno credo che Aldo Dario volesse dire quello prima per un danno e l'ho detto io per un danno di 4,6 miliardi di euro che il mezzogiorno in particolare le regioni Puglia e Campania subirebbero a causa di questi provvedimenti del governo Meloni Fitto vi ringrazio prego consigliere Mastrodonato se vuole replicare sì volevo ringraziare il sindaco per insomma averci spiegato un po' tutto però credo che l'asfalto che hanno messo forse sarebbe meglio mandare qualcuno a dare un'occhiata perché ho visto che si inizia io passo ogni mattina passo quindi è come se fosse che sta cioè un'occhiata io la darei ancora per caso si dovesse di nuovo riaprire grazie grazie se non ci sono altri interventi passiamo al primo punto all'ordine del giorno rendi conto della gestione 2022 approvato con deliberazione di consiglio comunale numero 27 del 30 mazzo 2023 rettifica composizione del risultato di amministrazione 2022 e relativi allegati prego assessore ciccioli buonasera a tutti allora con la delibera del consiglio comunale numero 27 del 30 maggio abbiamo approvato il rendiconto finanziario relativo relativo all'esercizio finanziario 2022 questo rendiconto si chiude con un avanzo di amministrazione di 39 milioni 743 mila 792 2,57 che sono ripartiti tra parte accantonata per 17 milioni 438 mila euro circa accantonata a vari fondi tipo fondo contenzioso fondo crediti di dubbio esigibilità per un totale di 17 milioni 438 mila una parte vincolata per 15 milioni 527 mila euro e una parte disponibile di 5 milioni 818 mila euro 650 mila 57 questo è il rendiconto che così come approvato il 30 maggio dal consiglio comunale già in data 23 maggio e in data 25 maggio con due note alcuni consiglieri comunali avevano nello specifico i consiglieri di direzione Corato avevano segnalato alcuni possibili errori nella posizione dei vincoli e quindi nella indicazione nella ripartizione delle risorse tra risorse vincolate e risorse che confluivano in avanzo libero a seguito diciamo di queste due note con verbale 38 del 24 maggio i revisori hanno inizialmente dato in carico al presidente del collegio dei revisori di interloquire immediatamente con l'amministrazione e con l'ufficio chiaramente di ragioneria per capire se le segnalazioni fossero fondate o meno successivamente il dirigente del secondo settore con una con la nota 253 51 quindi 25.351 del 26 maggio ha dato diciamo ha incaricato il vari settori interessati delle segnalazioni di fare le opportune verifiche successivamente i revisori il collegio dei revisori del comune con verbale numero 40 del 30 maggio raccomandavano all'amministrazione di non in attesa di definire di capire quali fossero diciamo se le segnalazioni fossero fondate o meno raccomandava di non utilizzare di non applicare l'avanzo libero di amministrazione tant'è che fino ad oggi l'amministrazione non ha applicato l'avanzo di amministrazione per la verità nemmeno l'avanzo vincolato quindi non solo l'avanzo libero come raccomandato dei revisori ma nemmeno l'avanzo vincolato fino ad oggi poi successivamente chiaramente gli uffici si sono attivati per fare le opportune verifiche e in data 12 giugno con nota 27.513 del 9 giugno ciascun settore ha segnalato sostanzialmente l'esito delle proprie quindi dei propri controlli effettuati e quindi poi hanno i dirigenti congiuntamente hanno sottoscritto in data 15 giugno una nota la nota protocollo 28.619 con la quale sostanzialmente hanno sintetizzato quelle che sono diciamo le loro le risultanze diciamo delle analisi condotte dall'analisi condotte è emerso che molte delle segnalazioni che erano pervenute erano diciamo corrette nel senso che quindi alcune somme che non erano alcune risorse che erano finite in avanzo libero in realtà andrebbero vincolate e viceversa altre somme che erano state erroneamente vincolate sono da svincolare per cui diciamo a seguito di questa ricognizione si propone quindi di effettuare la correzione degli errori materiali che sono stati segnalati gli uffici hanno diciamo dichiarano che si tratti di errori materiali involontari che sono sostanzialmente dovuti alla posizione all'errata indicazione all'interno del software di contabilità del codice che indica il vincolo delle somme o in alcuni casi in alcuni casi invece sono stati dovuti gli errori sono dovuti semplicemente a un mero errore di calcolo quindi siccome si tratta di errori meramente materiali possono essere quindi oggetto di correzione il rendiconto può essere quindi rettificato i revisori quindi hanno col verbale 44 del 29 giugno i revisori del comune hanno espresso la necessità di procedere quanto prima alla rimodulazione quindi alla correzione degli errori e alla rimodulazione della corretta applicazione dei vincoli e alla rimodulazione dell'avanzo tra avanzo libero e avanzo vincolato ricordando che l'avanzo rimane comunque nel suo complesso invariato e quindi a seguito diciamo di queste rettifiche che sono state recepite e quindi che si propongono cambia la parità di avanzo di amministrazione che rimane appunto pari a 39.743.792.57 cambia la composizione dell'avanzo stesso tra parte accantonata parte vincolata e parte disponibile per cui la parte accantonata rimane sostanzialmente invariata di 17.438.000 la parte vincolata aumenta da 15.527.000 a 19.760.000 mentre la parte disponibile cioè l'avanzo libero che inizialmente era di 5.818.650 scende a 1.585.000 euro quindi a seguito di queste diciamo delle modifiche che verrà diciamo che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare questa sarà la nuova composizione del rendiconto a seguito della correzione degli errori materiali gli equilibri di bilancio permangono quindi questa modifica non va in tutto sommato ad alterare gli equilibri di bilancio e quindi adesso si rimette alla volontà del Consiglio l'approvazione delle rettifiche e per la correzione degli errori grazie grazie ha chiesto la parola il Consigliere Salerno prego grazie Presidente è stata puntuale e dettagliata la relazione fatta dall'assessore Ciccioli per quanto riguarda esclusivamente la parte tecnica quindi quello che sono i numeri le voci che sono intervenuti quindi in questo discorso del rendiconto mi sono preso degli appunti per avere proprio la certezza diciamo di specificare i passaggi che più che altro interessano chiamiamo così la parte politica più che la parte tecnica in sé per sé oggi noi siamo chiamati a rettificare la composizione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione che avete approvato il 30 maggio scorso una rettifica di più di 4 milioni di euro che passano dall'avanzo libero all'avanzo vincolato rettifica che scaturisce dalle segnalazioni dei componenti di direzione corato queste incongruenze lo ricordo a me stesso sono state evidenziate nella commissione del 18 maggio commissione bilancio del 18 maggio e nel io personalmente ho segnalato 5 posizioni 5 5 5 capitoli del rendiconto a cui ho chiesto chiarimenti mi è stato dato un chiarimento diciamo poco consono e dopodiché praticamente noi abbiamo ufficializzato e formalizzato con nota del 23 e del 25 maggio andando a specificare i punti quindi diciamo no abbiamo sollevato questa questione in data 18 maggio corrente anno ovvero 12 giorni prima del consiglio comunale quindi nella seduta del 30 maggio in cui è stato approvato il rendiconto del 2022 sordi anche in consiglio comunale di questa faccenda perché anche in consiglio comunale è stato ribadito gli stessi passaggi l'avevamo fatto con nota l'abbiamo riportato in consiglio comunale sindaco noi abbiamo operato sempre con lealtà e trasparenza per non arrecare danni alla città ma ogni sollecitazione ogni suggerimento che proviene dai banchi della minoranza da lei è preso sempre come ostruzionismo politico o meglio ancora compiglio dittatoriale che a noi ci riporta alla memoria del ventennio anche per una somiglianza tricologica al fu praticamente diciamo innominato è lei che ogni volta ci accusa di semplice ostruzionismo politico e di fronte ai nostri dubbi chiama raccolta la sua maggioranza è andata avanti imperterriti come dei treni ad alta velocità ad approvare atti di dubbia legittimità per poi denunciare di ostruzionismo all'attività amministrativa e di paralizzare la città e l'attività amministrativa allora sindaco se direzione Corato non avesse fatto queste segnalazioni cosa sarebbe successo se tutto l'avanzo libero pari a 5 milioni 800 mila euro fosse stato utilizzato ad esempio per rifare lo stadio comunale avevate la disponibilità e veniva in mente rifacevate lo stadio comunale li impegnavate per fare lo stadio comunale cosa sarebbe successo se noi avessimo giocato di astuzia e quindi non evidenziando l'errore davamo la possibilità dell'utilizzo tutto in parte dell'avanzo che erroneamente era stato ritenuto libero non ci aspettiamo né un grazie e né un intervento di scuse non a noi sindaco ma alla città per aver per non aver subito verificato le nostre segnalazioni per noi approvare un rendiconto con dei dati corretti dico questo perché con i vostri comportamenti e con le vostre decisioni con il vostro non voler ascoltare nessuno non avete potuto utilizzare l'avanzo di amministrazione per tre mesi e alla prima occasione utile avete scaricato la colpa sugli uffici per il caso della famiglia che ha lamentato la mancata erogazione dei fondi del progetto di vita indipendente non avete potuto contrattualizzare un assistente domiciliare personale a causa dell'errore presente nella composizione dell'avanzo e invece come ervai da vostro costume avete addossato la colpa agli uffici comunali avete scaricato la colpa agli uffici parlando di inaccettabili disfunzioni gestionali di disfunzioni di carattere tecnico burocratico che ritardino l'avvio della progettualità e che ulteriori ritardi non saranno tollerati sono parole del 29 agosto sui giornali online assessore sindaco si può sbagliare e voi ormai siete un esempio prolifico ma vi avevamo segnalato per tempo questi errori ma come sempre avete deciso di tirare diritto per la vostra strada bloccando per tre mesi l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione alla famiglia che lamentava la mancata erogazione dei fondi avreste semplicemente dovuto chiedere scusa perché quei fondi non erano disponibili da parte degli uffici per una precisa vostra scelta voi avete scelto di non verificare subito le nostre segnalazioni avete scelto di approvare un rendicondo errato consapevoli di non poter utilizzare avanzo di amministrazione così come suggerito dal collegio dei revisori nel punto all'ordine del giorno successivo di questo consiglio comunale applicherete 302.843 euro per i progetti di vita indipendente l'avreste potuto fare molto tempo prima con un solo pizzico di umiltà il 30 maggio avete ritirato il punto sull'approvazione del rendicondo per poi essere approvato con i dati corretti comunque a questo punto siamo proprio sicuri che sia possibile apportare delle modifiche a un bilancio consuntivo già approvato noi abbiamo dei dubbi e per questo esprimeremo voto contrario chiediamo al segretario generale che tutta la documentazione relativa a questo punto venga trasmessa alla corte dei conti della regione Puglia infine chiediamo di trasmettere i dati rettificati del rendiconto alla banca dati della pubblica amministrazione ai sensi del decreto ministeriale 12 maggio 2016 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2016 grazie grazie consigliere salerno se non ci sono altri inter prego prego solo una precisazione consigliere salerno nella commissione del 18 lei chiese del 18 maggio lei chiese delle informazioni su alcuni capitoli ma non aveva fatto le segnalazioni che poi sono state fatte dopo con quelle note giusto per correttezza ma aveva chiesto altre informazioni in merito a quei capitoli che poi dalle quali poi eventualmente evidentemente sono scaturite ma in commissione se andiamo a vedere i verbali non fu segnalata diciamo quella incongruenza questo è diciamo il primo punto per quanto riguarda le questioni di natura politica vabbè lei diciamo chiaramente ha fatto le sue osservazioni dal suo punto di vista io diciamo quello che posso dire è che non fu una scelta azzardata fu una scelta ponderata legata al fatto che il rendiconto la legge impone tempi stringenti sull'approvazione del rendiconto e gli uffici come poi si è visto anche dagli atti cioè nel senso che poi gli uffici per produrre poi gli atti relativi alle opportune controlli hanno avuto la necessità di parecchi giorni per lavorarci quindi questa è la motivazione per la quale si decise di nella incertezza perché chiaramente in quel preciso momento si trattava di segnalazioni da parte vostra nel merito delle quali però bisognava entrare e quindi prudenzialmente si decise di approvare il bilancio salvo poi rettificarlo in merito all'ultima osservazione che faceva sulla rettifica chiaramente su questo sarà la Corte dei Conti chiaramente a esprimersi alla quale di default sarebbero stati comunque trasmessi tutti gli atti ma questo perché è previsto non perché diciamo al di là della richiesta sarebbero stati comunque trasmessi alla Corte dei Conti tutti gli atti ma noi riteniamo che la rettifica possa essere fatta trattandosi di errori materiali quindi chiediamo al Consiglio di maniera serena di apportare le rettifiche poiché di errori materiali si tratta e non di scelte politiche che chiaramente avrebbero un significato diverso e quindi di una correzione in autotutela sostanzialmente cosa che è consentita dalla legge è consentita la normativa ma poi ci rimettiamo al giudizio della Corte dei Conti che si esprimerà in merito grazie grazie assessore prego sindaco a volte rimango veramente perplesso perché si fa passare per generosità e per supporto ciò che invece è ogni volta la mossa che tenta di colpire al cuore è giusto consigliere Fiore la vedo sorridente stasera sono contento per questo si capovolge la realtà silenzio consigliere senza microfono sindaco se lo interpella è senza microfono il povero consigliere non può rispondere ho visto sorridente mi ha aperto il cuore perché se non si approva il rendiconto alla data del 30 aprile e al 18 maggio si era già fuori termine che cosa succede scioglimento del consiglio comunale è sempre quello è il punto è sempre lì si vuole arrivare a far cadere le amministrazioni lo sport lo sport di alcune forze politiche far cadere le amministrazioni cosa devi temporeggiare al 18 maggio devi approvare il rendiconto laddove tuttavia il problema lo diciamo allora e lo ripetiamo adesso non era un errore nel totale quello sì problematico sarebbe stato non era un errore nel totale e lì si apre lo scenario se è possibile o meno modificare il rendiconto quando cambia il totale ma la ripartizione tra avanzo libero e avanzo vincolato e noi fatte queste giuste questi giusti approfondimenti abbiamo con serenità approvato il rendiconto poi alla scadenza successiva quale l'approvazione della salvaguardia è vero che cosa abbiamo fatto intuendo diciamo la successiva posta di generosità abbiamo deciso di approvare la salvaguardia di bilancio di Coben e Sessone senza impegnare l'avanzo libero perché lì poi ci avrebbero silurato e non l'abbiamo utilizzato l'avanzo libero cosicché oggi noi rettifichiamo la ripartizione tra avanzo vincolato e avanzo libero e con serenità senza danno alcuno per la città diciamo così andiamo avanti nel processo amministrativo ma sempre ti devi guardare le spalle questo è l'assurdo questo è l'assurdo provi progetto di vita indipendente per persone con diversabilità anche qui la capacità di capovolgere i dati quando io mi sono insediato nell'anno 2020 avevano fatto la domanda per usufruire di questo supporto domanda avevano risposto al bando regionale cinque persone anno 2020 se andate a fare poi una ricerca negli anni tra il 2016 e il 2019 quante persone fanno la domanda una per anno giusto dico bene assessore a Dario a Dario Felice anno 2021 amministrazione dei benedittis quante persone nostri concittadini ovviamente fanno la domanda 40 per poi arrivare a 45 che sono state finanziate fatto salvo il caso che si è determinato il caso specifico che si è determinato di numero tre pratiche rimaste in sospeso certamente e quindi diciamo finite in quel limbo che oggi si va a risolvere e domani a sbloccare immediatamente ovviamente quindi guardiamo le cose anche con una visione d'insieme cioè questa è un'amministrazione che ha informato la città che esiste il bando regionale chiamato progetto di vita indipendente aprendo quindi una possibilità portando diciamo in mano la possibilità di far domanda che evidentemente sfuggiva perché non lo si sapeva questi sono i dati questi sono i numeri quelle tre persone rimaste in sospeso che ora saranno ovviamente diciamo supportate sul piano finanziario secondo quanto la legge prevede certamente va tutto il nostro rammarico ci mancherebbe altro allora diciamo che non succederà più è che il nostro impegno a favore di una cultura di diritti che restituisce dignità alle persone questo nostro impegno è al primo posto dell'azione amministrativa ed è il motivo per cui stiamo a governare la città grazie grazie sindaco prego consigliere salerno grazie presidente due semplici passaggi a consigliere Ciccioli perché all'assessore Ciccioli chiedo scusa sono rimasto ancora un po' zaro non volevo volevo ledere volevo dirgli che quel giorno in commissione anche se non è stata esplicitata la forma della cosa ma è stato suonato un campanello d'allarme per dare la possibilità di entrare in merito alle situazioni e quindi di eventualmente intervenire in merito mi fa specie sindaco io gli ho sempre riconosciuto un'oratoria che che in qualche maniera diciamo diciamo così imbonisce un po' diciamo ci 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 cerca di convincerci però molte volte francamente sindaco lei ha l'abilità di stravolgere con cattiveria veramente con un punto con una punta di cattiveria ma quello che è il pensiero e quella che è l'azione diciamo di consiglieri comunali di minoranza di opposizione come la volete chiamarle che oltretutto dimostrano che avete l'abitudine di arrivare lei sta praticamente invocando questo fatto della scadenza quando siete arrivati a fare una sola commissione bilancio della discussione di un rendiconto sotto la scadenza punto non si discute una commissione e basta dopodiché giustificate l'intervento dei consiglieri perché state in netto ritardo per l'approvazione ma di che cosa stiamo parlando andate con i tempi giusti e molto probabilmente abbiamo la possibilità di discutere di verificare di capire di non fare errori di non portare per tre mesi la città allo sbando senza poter utilizzare e no perché lei sindaco lei ha dichiarato che noi paralizziamo la città ma se voi per tre mesi non potete utilizzare la disponibilità delle somme diteci voi chi è che paralizza la città ma abbiate pazienza abbiate pazienza cioè non è che con questi discorsi volete convincere non ho capito chi volete convincere noi stiamo parlando nel merito lei invece nella sua oratoria fa un discorso generalizzato che punta a demolire cosa alla fine siete venuti con dei provvedimenti di rettifica sì o no questo è il risultato che dovete con delle delibere rettificare degli errori che non è che sono fatti al computer perché al computer si mette da solo l'errore questo è il problema questo abbiamo evidenziato non abbiamo fatto altro quindi se lei continua ancora in maniera diciamo continuativa a dire che si paralizza la città evidenziando delle problematiche va bene solo e soltanto perché abbiamo idea di buttarvi a mare ma fate le cose bene e nessuno vi butta a mare ma chi ve lo dice e fate le cose bene e quindi rettificatele delibere grazie ha chiesto la parola il consigliere Bovino prego sì grazie presidente vorrei porre un quesito al funzionario dell'ufficio ragioneria l'articolo 227 del testo unico di funzionamento degli enti locali oltre alla data del 30 aprile pone un'altra data come data ultima per l'approvazione del rendiconto che poi comprende gli altri allegati poi farò il mio intervento se non mi sbaglio è previsto il 30 aprile però non avendo il testo unico qua davanti non confermo sulla base dell'esperienza che sia il 30 aprile salvo ovviamente la prefettura può dare un termine aggiuntivo in particolari condizioni io la ringrazio mi supporta nel ricordare nel ricordare bene che l'unica data che il legislatore indica per l'approvazione del rendiconto è quella del 30 aprile sindaco le bugie hanno le gambe corte o quando le dice lei è pregato o di studiare o di informarsi o non dire cose che con il linguaggio politichese diceva il consigliere Salerno tenta di convincere non so chi questa è l'ennesima prova della cifra della sua del suo operato perché sarebbe bastato che lei avessi detto ci siamo sbagliati invece no lei vuole fare il triplo salto mortale dicendo che la colpa è la nostra quando abbiamo detto il 18 maggio già dopo la data che il legislatore intendeva per l'approvazione del rendiconto ma no consigliere Salerno come si permette di studiare di andare a leggere o di stampare gli atti ma chi ve la fa fare il 18 maggio dopo 18 giorni noi avevamo sbagliato a suggerire che i conti erano voi avevate sbagliato chiediamo a Cesare quel che è di Cesare avevate sbagliato a dire che i conti non erano diciamo in ordine perché è una questione di lana caprina cioè far rimbalzare la palla da una destinazione vincolata di alcuni fondi piuttosto che ad una destinazione libera io la ringrazio Assessore Cicoli perché ho visto in lei un po' i panni diciamo di chi insomma come martire stava cercando di giustificare stava cercando di giustificare qualcosa che magari bastava una semplice parola scusa e non il tempo o l'ostruzionismo o le chiacchiere o le favole perché noi di favole ormai le abbiamo sentite tutte perché ricordo purtroppo sono dieci anni che faccio il consigliere comunale non purtroppo per il consigliere comunale purtroppo perché ricordi ci fu un passaggio dell'ex dell'ex sindaco dell'ex sindaco dico bene dell'amministrazione Mazzilli dove ci fu l'acquisizione di un di 30 ettari 100 ettari non mi ricordo per le tombe di San Magno nel di 30 ettari che mi fa piacere che il partito democratico ricordi questa cosa perché è proprio questo che volevo lasciare a voi come giudizio perché chi mette i voti chi mette il giudizio chi dice chi fa bene chi fa male siete voi per carità perché poi non vorremmo essere diciamo persone che non sorridono perché evidentemente forse siete voi che non le fate sorridere c'era o meglio c'è poco da ridere l'amministrazione Mazzilli in un provvedimento di acquisizione fu negli atti allegati ci fu un errore nella trascrizione semplicemente nella trascrizione e tale tale era e ricordo allora che fu segnalato dai banchi dell'opposizione e dopo tre giorni fumo aggiornati fumo riconvocati come consiglio comunale di domenica pomeriggio con l'unico punto all'ordine del giorno non so presidente consigliere consigliere Salerno e altri che hanno la memoria storica dei lavori di questa sise da una parte dell'opposizione veniva detto ecco e speppero di denaro pubblico abbiamo convocato un altro consiglio comunale laddove si fosse dato ascolto ad una parte della minoranza ma io non non uso il vostro linguaggio lo lascio a voi perché se lo fanno altri è sbagliato se lo fate voi è corretto è giusto è rispettoso della legge con tutte le chiacchiere annesse e connesse mi dispiace che non ci è stata fatta qualche fotografia e si è persa un'ulteriore un'ulteriore possibilità perché quella che emerge dalla trattazione di questo punto è che se avessimo dato ascolto oggi noi non avremmo votato una rettifica perché rettifica è è una rettifica è una correzione di ciò che era stato sbagliato allora io non mi voglio dilungare nel mio intervento e non è che i consiglieri di minoranza studiano menzionano le leggi quelle giuste non quelle sbagliate non quelle che fa comodo raccontare perché si è bravi nel saperle raccontare però poi non diciamo che noi siamo dal 18 ottobre del 2020 in sella a guidare una città che come ho sempre detto si è bravi a sedurre ma non si è bravi a condurre e sentire ancora oggi e vedere poi tra l'altro che c'è un bando per riassestare per mettere in ordine dopo tre anni perché adesso siamo lontani dalla campagna elettorale quindi non è che lei può dare colpe ancora al passato cioè il passato è lei sono tre anni che sentiamo dire ritardi cronici amministrazioni dipendenti comunali che non ci sono e i dipendenti oggi se non ci fosse stato il consiglio comunale avrebbero avuto avrebbero avuto un altro impiego penso che so agli operatori della polizia locale penso ai costi di funzionamento di questo consiglio è vero presidente perché convocare un consiglio comunale ha dei costi ma non voglio essere populista perché voi lo dicevate ad altri l'ex partito democratico lo dicevano ad altri io ero seduto al suo posto però ripeto e concludo voto contro oltre perché è un atto politico perché è collegato al bilancio ed è l'atto politico per eccellenza non perché è stato fatto una sola commissione su 14 punti perché poi noi dobbiamo avere la briga che dobbiamo essere bravi quando dicono loro che in commissione dobbiamo essere preparati già pronti dopo tre giorni due giorni a leggersi un faldone di carte noi dobbiamo essere bravi è vero consigliere Fuzio noi dobbiamo essere bravi perché se andiamo impreparati in commissione noi non abbiamo studiato perché noi non abbiamo gli uffici a supporto perché non andiamo a disturbare gli uffici per cercare di non piantare grani o non di creare quei disservizi a cui lei fa riferimento i disservizi li crea lei il sindaco sarebbe bastato un atteggiamento umile che è mancante dal primo giorno e dire scusate avevamo sbagliato allora dal 18 in tre giorni si convocava un'altra commissione e poi oggi non avremmo avuto questa rettifica ma no ma dovevamo dar ragione ai consiglieri di direzione Italia o l'altra volta al consigliere Bovino per la contestuale approvazione del DOPE del bilancio ma state scherzando ma state scherzando allora noi non parliamo con rancore non parliamo noi parliamo con oggettività perché quello raccontano gli atti e ancora una volta la invito invito lei invito i consiglieri di maggioranza a cercare di dare sostanza a quanto si è detto e a quanto si cerca di dire quando si tratta di convincere cose per cui gli atti e la storia raccontano altro cercate di dare sostanza e di fare un po' una revisione a tre anni del quasi tre anni manca circa un mese a tre anni del vostro impegno come un tagliando di controllo non lo so perché ai veicoli ogni si fa la revisione voi siete infallibili quindi mi auguro che qualche esame di coscienza consigliere Tarantini cito lei perché forse ha i capelli più bianchi rispetto a qualche altro ma non lo dico per offesa ma per mancano ma qualcuno i lati ce li ha e quindi una revisione un tagliando di controllo perché ricordo lei in una commissione fece riferimento a dei termovalizzatori termovalorizzatori centrali da visitare e quant'altro però io non so che serie milita nella maggioranza se è serie A serie B o serie C non lo so però insomma per dare sostanza a quello a quello che molte volte si è detto in campagna elettorale mi auguro che si prenda esempio mettendo mettendo molte volte in campo un atteggiamento più umile più rispettoso del pensiero altrui sebbene giunga dalla diciamo da chi viene considerato opposizione grazie grazie consigliere ha chiesto la parola la consigliera d'introno prego grazie presidente a malincuore è constato che questo mio malessere è generalizzato alla fine tutti gli interventi che si sono susseguiti contengono lo stesso messaggio ossia che sindaco a detta sua noi dovremmo stare qui semplicemente a dire quanto è bello e quanto è bravo ma purtroppo lei non è né bello né bravo mi dispiace dirglielo e il dispiacere più grande è che questo malcontento non non è solo all'interno di quest'aula consigliare prima mi rivolgevo all'assessore Sciccioli sollecitando il bilancio partecipato perché è fondamentale coinvolgere i cittadini perché per quel che io sappia ripeto il malcontento non è solo all'interno di queste quattro mura ma è anche all'esterno sindaco poi come ormai è vostra abitudine potete anche scrivervi da soli come ha fatto ad esempio l'assessore Marcone monologhi di autocelebrazione benvenga voi ve la suonate voi ve la cantate ma siete davvero sicuri che all'esterno la città stia apprezzando tutto questo quanto meno quanto meno ponetevi il dubbio invece no siete talmente sicuri talmente convinti di voi e di quello che fate da non voler ascoltare niente e nessuno piuttosto andate avanti spediti come un treno per poi arrivare a convocare il consiglio comunale il 6 settembre solo per rettificare un errore che vi era stato addirittura segnalato onore all'assessore Sciccioli che correttamente ha parlato di errore sindaco non di intoppo burocratico come lei in maniera subdola ha dichiarato alle testate giornalistiche lei è l'assessore Felicio Addario intoppo burocratico di che è un errore e quanto almeno come minimo dovevate chiedere scusa a quelle famiglie che da un anno da un anno sindaco aspettano quelle somme altro che intoppo burocratico ma francamente non mi va di maramaldeggiare perché mi sembra un po' di sparare sulla croce rossa perché il secondo anno di fila che siamo chiamati a correggere il rendiconto cioè noi lo sbagliamo per due anni di fila e lei sindaco ha il barbaro coraggio di accusare noi consiglieri di ostruzionismo di rallentare l'attività amministrativa ma si ascolta quando parla ma siamo seri poi tra l'altro ridicolo tira in ballo le riunioni di maggioranza sul serio dobbiamo parlare di quella farsa di riunioni che si tengono in cui si prendono delle posizioni che poi vengono riportate in commissione e poi in consiglio si fa l'esatto opposto vogliamo parlare delle monetizzazioni ce lo siamo già dimenticato io non ho tempo da perdere sindaco non partecipo a riunioni in cui si dice per poi arrivare in consiglio e fare l'esatto contrario di quello che si è detto e di quelle che sono state le promesse fatte ad una città intera quindi delle riunioni di maggioranza non le tirate in ballo e sottolineo caro sindaco che questa amministrazione è partita con una maggioranza 18 18 consiglieri 18 consiglieri sindaco l'ultimo consiglio comunale penultimo alle 4 di notte il punto è un punto fondamentale appunto quello del permesso di costruire convenzionato è passato con 12 voti si ponga delle domande signor sindaco il problema è la consigliera d'introno o il malessere generalizzato io francamente non ho più parole perché siamo chiamati qua a correggere gli errori correggiamoli che vi devo dire ma fermatevi ponetevi ripeto in una condizione mettetevi in discussione stiamo facendo sul serio il bene della città ne siete davvero convinti colleghi consiglieri ne siete davvero convinti le somme che oggi saranno spese per questo consiglio comunale potevano essere risparmiate beh penso proprio di sì se il 18 maggio probabilmente qualcuno avesse quantomeno concesso ai consiglieri di opposizione di maggioranza all'intero consiglio comunale di valutare in maniera obiettiva senza pressioni senza il il dolore di sentirsi additate come parte di una di un'opposizione che vuole solo il male di questa città non è corretto sindaco noi siamo qua perché vogliamo andare avanti in maniera sana in maniera serena ripeto correggiamo questi errori con l'auspicio che sul serio non si ripetano più situazioni del genere chiede il consigliere a Dario prego grazie presidente niente a me che partecipo alla riunione di maggioranza il problema ce lo siamo posti abbondantemente quando è sorto e i tempi per gli uffici per verificare quanto segnalato da direzione corato non c'erano per cui entro la data necessaria per cui si è dovuti comunque approvare quel bilancio così prendendo in considerazione a tutela di questo si è evitato di utilizzare l'avanzo libero quindi avevamo l'escamotage per uscire fuori dal problema ora andiamo a fare la nostra verifica totale una volta che gli uffici hanno avuto il tempo di poter operare e di poter verificare hanno verificato che effettivamente delle somme da vincolate non lo erano viceversa si è chiarito tutto andiamo a sistemare di fatto non c'è stato nessun serio concreto problema ora fare di questi problemi che esistono non voglio non voglio negarli però dargli un risalto così enorme mi sembra a dir poco eccessivo laddove questo consiglio comunale ha evitato invece di discutere di cose all'inizio di questo consiglio si è evitato di discutere di cose che hanno una ricaduta sulla nostra città e su tutto il meridione paurosa ci sta un PNRR che è stato definanziato per 16 miliardi i 32 mila miliardi di una volta un fondo di coesione sociale fondo sociale di coesione definanziato per altri 4,6 miliardi il PNRR determinava succorato una caduta una ricaduta di 16 allora un attimo solo il consiglio di un discorso sto replicando la discussione di questa sera no allora premesso che tutti devono stare la seconda non mi accetto consigliere Salerno non parli fuori microfono non facciamo dibattiti consigliere a Dario finisco il suo intervento lei sa che deve stare sul punto il comune di Corato rischia spero di non perdere per comunque certamente quasi non qualche migliaia di aereo 11 milioni di euro che noi avremmo dovuto immediatamente cantierizzare per realizzare entro date a tempi stretti e ci saremmo ritrovato con il vecchio liceo classico quello di Corso Garibaldi interamente ristrutturato e guardate chi stava in commissione cultura ha visto l'ipotesi di utilizzo di quella struttura un qualche cosa di eccellente speriamo che non si perda molti anni in più e speriamo che comunque venga fatto di questo avremmo dovuto discutere oggi di qualche cosa di un'enorme importanza rispetto a quanto stiamo discutendo ora pare che salteranno anche altri 4,6 milioni di euro per i fondi di coesione sociale ma soprattutto il tutto verrà centralizzato al ministero quindi si teme visto che quei suoi fondi dovrebbero andare a risarcire di consigliere però continui il suo intervento stando sul punto certo quei fondi avrebbero dovuto essere utilizzati per il sud quindi per noi quindi sto al punto d'accordo invece probabilmente verranno spesi per un ipotetico ponte sullo stretto del Messina questo in omaggio agli interessi di altre zone del territorio italiano contro le quali assolutamente non ho niente d'accordo però ci sono dei partiti in Italia che in questo consiglio comunale non sono rappresentati che deviano in quelle zone gli investimenti dello Stato stiamo parlando del rendiconto esattamente il consigliere Salia è tutto se mi dato la possibilità di parlare si non interrompiamo però chi sta parlando al microfono consigliere Salia quei fondi sarebbero serviti per la tutela dell'ambiente la tutela ambientale per l'efficientamento energetico per la lotta la povertà per l'inclusione sociale altro che provi che è certamente anche quello un problema è chiaro anche se pare che anche là ci sono stati sono arrivati tanti più soldi accorati rispetto al passato rispetto alle passate amministrazioni e tutto in omaggio all'autonomia differenziata passiamo al discorso sulla coesione sociale che dovrebbe essere un fine di una politica corretta no però consigliere deve stare chiedo scusa stiamo parlando della rettifica del rendiconto se lei però se mi interrompete in continuazione ho capito però insomma inevitabilmente se mi interrompete in continuazione io poi perdo tutto il filo e non il modus operandi quindi di questo governo è a totale discapito del nostro territorio noi andiamo là a trovare le pulci a un comune che ha degli uffici con sottodimensionati con poco personale con un dirigente che in quel periodo non c'era che hanno fatto degli errori certamente ci possono anche essere stati degli errori dalla politica io veramente onestamente non li vedo proprio perché abbiamo cercato in tutti i modi di evitarlo ma non è stato possibile per cui arriviamo al Consiglio Comunale di oggi che va a sanare questi piccoli problemi che ripeto non sono stati certamente voluti certamente li avremmo voluti evitare se ci fossero stati presentati in modo più chiaro già in quella commissione forse avremmo potuto evitarli in effetti perché forse in quei 10 giorni che mancavano 13 giorni che mancavano forse gli uffici messi alla frusta avrebbero potuto fare una verifica sul momento ma poi i tempi sono passati quindi si è dovuto approvare il rendiconto quindi non vedo onestamente alla luce di queste problematiche enormi che stanno a livello nazionale che ci andranno a penalizzare fortemente e per il quale noi dovremmo già noi come organi politici dovremmo andare domani mattina il consiglio dei ministri dovrebbe approvare questo questo decreto che ci penalizzerà ulteriormente enormemente se noi oggi facciamo una telefonata ai nostri referenti politici per cercare di scongiurare questa spada di Mardamocle che ci arriverà domani in testa forse spenderemmo meglio il nostro tempo grazie grazie consigliere prego consigliere Salerno Presidente solo per richiamare lei perché lei effettivamente ha consentito al consigliere Addario in questa situazione di stravaricare completamente l'argomento e di andare praticamente a fare il tra virgolette furbetto ha utilizzato questo tipo di argomento per fare altri tipi di discorso che non c'entrano assolutamente niente mi dispiace Presidente ma lei non doveva consentirlo consigliere Salerno io l'ho richiamato ma il consigliere ha a disposizione 15 minuti per cui io non posso sapere no un attimo solo io non posso sapere se il suo ragionamento è un preambolo per arrivare a rendiconto al punto all'ordine del giorno pertanto nel momento in cui mi sono accorta che stava parlando d'altro l'ho richiamato ma non posso sapere no io non posso spegnerlo perché non sapevo dove volesse arrivare ha chiesto la parola il consigliere Arsale prego Sì grazie presidente diciamo è una serata come dire importante perché comunque chiudiamo un capitolo che è quello del rendiconto e che finalmente cerchiamo anche di capire quello che è l'avanzo libero che questa amministrazione può utilizzare per mettere a disposizione di ulteriori servizi alla collettività però devo dire che quando si ha una forza politica comunque parla di dubbio a legittimità dei conti io non sarei d'accordo perché tenete presente che comunque il rendiconto è una ormai ecco proprio perché parla di rendiconto di ciò che è avvenuto nell'anno precedente e quindi è una serie di chiusura dei conti di quello che si è fatto e quello che poi potrebbe essere l'avanzo che si va a definire per poterlo utilizzare nel successivo bilancio di previsione quindi bene ha detto il sindaco insomma che non va a stravolgere i numeri ma era solo chiarimento su quello che erano l'avanzo da definire quelli che erano le poste vincolate e quelle che poi rimanevano libere è chiaro che giustamente come ogni consigliere ha il dovere in sede di commissione di controllo perché quello indirizzo e controllo anche di suggerire che magari ci sono delle situazioni un po' diciamo da verificare e quindi quello questo a livello di ragioneria ha dovuto comunque effettuare e sotto questo aspetto io intanto proprio perché anche si è parlato insomma qualcuno vuole essere come deve dire il difensore degli uffici io che sono stato quello anche più radicale in un incontro di maggioranza all'interno con alcuni componenti di maggioranza perché vorrei ricordare che questo problema dei fondi vincolati o non vincolati è un qualcosa che avviene dal passato e che spero io personalmente piano piano si vada a ridurre perché ricordo e vi ricordo come ho fatto in un'altra occasione che in un consiglio comunale noi abbiamo una posta che era vincolata quella dei trasporti abbiamo dovuto comunque utilizzare dopo diversi anni delle risorse per poter pagare un'azienda di trasporto locale fondi vincolati regionali che erano destinati a quel tipo di vincolo e che invece poi abbiamo utilizzato come debito fuori bilancio e se questo discorso di poste vincolate non vincolate viene dal passato e che oggi piano 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 si cerca di ridurre io vorrei intanto ringraziare come dire ringrazio sia l'assessore Ciccioli sia il sindaco perché nel silenzio come dire e come capo dell'amministrazione responsabilmente si sta assumendo tutte le responsabilità del caso perché guardate proprio perché si tratta di importi che arrivano e che devono essere catalogati come vincolati o non vincolati è chiaro che diciamo a livello organizzativo c'è qualcosa evidentemente che non non ha funzionato e che giustamente il sindaco si sta assumendo le proprie responsabilità nel senso di come capo dell'amministrazione di porre a termine questa situazione che comunque aveva delle date cioè il rendiconto comunque andava approvato andava portato in consiglio comunale con il deficit intrapre intravesto e che oggi andremo a chiudere con pareri dei revisori con tutto ciò che la nostra la legge permette per arrivare a una serena votazione ora che oggi si scatena una sorta di tiro al piattello a piattino come si dice al piattello a trovare il colpevole di tutta questa situazione penso che nel silenzio nostro diciamo ognuno si dovrà fare l'esame di coscienza e non è un punto perché nessuno vuol bloccare dei fonti vincolati che servono appunto per autonomie dare autonomie a determinate situazioni è chiaro io personalmente non credo che lo faccia apposto lo farei apposta a bloccare il tutto per non dare spazio a questi 45 progetti insomma e non poterli farli avviare è chiaro che questa situazione io penso che tutta tutta l'organizzazione dell'amministrazione debba far riflettere e farsi un esame di coscienza io su questo diciamo punterei e spero che per il prossimo futuro queste questioni contabili che non hanno nulla di politico almeno perché politica dovevamo parlare nel bilancio di previsione quando tu vai a fare il rendiconto si chiude quello che è il bilancio previsione dell'anno precedente quindi spero che questa situazione si chiuda benedettamente oggi e si porta avanti un'idea di efficienza io questo quindi ecco perché rinnovo diciamo chi comunque responsabilmente si assume le responsabilità e che tutti quanti noi insomma possiamo poter procedere e andare avanti grazie grazie consigliere prego consigliere Bovino sì grazie presidente mi è venuto un dubbio nel mentre cercavo di approfondire lo studio della norma noi in realtà stiamo rettificando un atto diciamo che avremmo dovuto votare nel aprile 2023 quindi stiamo correggendo un rendiconto che in base a dei step procedurali amministrativi precede appunto tutto ciò che riguarda poi il bilancio e quant'altro la mia domanda è questa quindi porrei anche la richiesta di un parere magari forse ai revisori o alla corte di conti stessa noi stiamo mettendo mano o meglio voi state mettendo mano al rendiconto il rendiconto o che lo si sbagli in buona fede o che lo si sbagli in mala fede o che perché nessuno va alla ricerca del capro espiatorio perché il colpevole è l'atteggiamento diffuso generalizzato continuativo e altro e no perché noi lo diciamo spesso e qualche volta magari è capitato anche a lei consigliere Arsale di dirlo e poi magari non l'ha detto più però non è che l'atteggiamento viene messo in evidenza quando fa comodo a noi per non so chissà che cosa però ripeto sempre per purtroppo sempre per quel vizio della memoria io ricordo un consiglio comunale subito dopo le festività natalizie lei abbandonò l'aula dicendo che era d'accordo con noi perché non avevamo avuto il tempo di studiare e si stava parlando diciamo di argomenti piuttosto seri c'erano tanti debiti fuori bilancio non voglio aggiungere quello che magari abbiamo vissuto come esperienza nella commissione urbanistica dove lei in qualità di presidente diciamo prima ha detto una cosa e poi magari alle 4 di mattina si è trovato ad approvare altro ma questi sono problemi interno alla maggioranza e quindi magari qualche consigliere che in questa sise è brava a fare a fare i post nel rispetto di chi magari tenta di studiare per evitare impasse c'è qualche consigliere di maggioranza che si diverte a fare post su facebook però questo non lo prendo come come una giustificazione perché ho le spalle larghe mi faccia finire poi magari quando chiederà la parola potrà parlare lei noi non siamo in campagna elettorale quindi stiamo parlando di un rendiconto stiamo parlando di un rendiconto per cui chiedo alla alla parte tecnica e eventualmente anche ad altri di chiedere un parere nella nella legittimità di questa correzione o di questa manomissione perché il rendiconto lo possiamo aprire solo se ce lo dice lo possiamo toccare solo se ce lo dice la corte dei conti adesso ecco vorrei essere diciamo così rasserenato per vostro conto perché è una forte assunzione di responsabilità grazie vuole rispondere dottoressa prego accendiamo il microfono sì beh io siccome questo è il secondo anno che viene fatta la rettifica io l'anno scorso non c'ero sicuramente verificherò gli atti dell'anno scorso si farà la stessa procedura in questo momento mi riservo di non rispondere termini consigliere signor Presidente sì io la ringrazio perché non facevo riferimento però mi conforta ancora di più nel chiedere magari un ulteriore approfondimento e al collegio dei revisori o magari il sindaco se le vuole può porre un quesito alla corte dei conti stesse magari soprassedere all'odierna votazione perché quella dell'anno scorso prego consigliere Bovino completi sì non so cosa hanno visto o cosa vorrebbero vedere io in maniera molto trasparente ho chiesto e quello dell'anno scorso non so per che cosa è stato fatto magari faremo un accesso agli atti però non so se è stato fatto per rettifica di conti o per altro però quello che chiedo siamo certi siete certi della bontà giuridica di questo provvedimento interviene il segretario generale che ha chiesto la parola allora voglio solo specificare questo l'anno scorso abbiamo portato due rettifiche a rendiconto sempre per la stessa motivazione ovvero perché c'era stato un errore involontario sempre nella spunta di un vincolato e non vincolato ora noi non stiamo mettendo mano nel senso che noi non stiamo facendo una revoca o annullando un provvedimento amministrativo noi stiamo facendo una rettifica che semplicemente va a modificare un errore materiale che è consentito quindi non c'è nessuna autorizzazione della Corte dei Conti l'autorizzazione sarebbe diciamo necessitata qualora ci fosse stata una modifica del risultato di amministrazione che in questo caso noi non abbiamo tra l'altro come l'anno scorso anche quest'anno noi manderemo tutto alla Corte dei Conti perché se hanno una rettifica a rendiconto ovviamente va inviato lì e anche all'ABDAP come diciamo suggeriva il consigliere Salerno ma che noi facciamo in automatico perché vanno aggiornati comunque i conti quindi non ritengo diciamo ci sia alcuna autorizzazione tra l'altro ci sono anche sentenze della Corte dei Conti Puglia che ribadiscono il concetto ovvero che se si tratta di una revoca o di un annullamento d'ufficio quindi parliamo sempre di provvedimenti di secondo grado però che vanno ad inficiare la sostanza del provvedimento quando appunto si va a modificare il risultato di amministrazione in quel caso l'amministrazione non può in autonomia aprire le modifiche del rendiconto ma ovviamente deve intervenire la Corte dei Conti della Corte dei Conti che deve autorizzare o meno l'amministrazione a poter modificare non è questo il nostro caso questo ci tengo a specificarlo prego Bovino grazie segretario per il contributo e suggerirei sempre a vostra vostro supporto nella dicitura del nella raccomandazione e trattazione del punto odierno perché prima magari è emerso nella trattazione dell'assessore non è il caso che si aggiunga rettifica in autotutela così viene meglio sì però dico in diritto amministrativo è rettifica cioè è un provvedimento in autotutela cioè rientra rientra appunto no dico rientra diciamo in uno dei provvedimenti in autotutela quindi si parla di un provvedimento di secondo grado però si chiama rettifica cioè non si chiama rettifica in autotutela non c'è l'articolo di legge che dovrebbe essere mi pare il 21 qui in che se non lo ricordo il 21 dice bene sì è rettifica cioè non c'è in autotutela è il capo del diciamo del codice che appunto si chiama provvedimenti in autotutela in generale ed elenca quelli che sono i provvedimenti per questa motivazione io dicevo si chiama rettifica il provvedimento di secondo grado è chiaro che è rettifica in autotutela in autotutela proprio perché ma l'ho presunto e lo presuppone cioè il provvedimento si chiama rettifica come ritenete opportuno grazie prego sindaco ma in conclusione ecco ritengo che dobbiamo sempre conservare quel clima di serenità invece vedo tanto veleno tanta aggressività vedo anche insomma tanta contraddizione di fatto di fatto oggi noi approviamo questa rettifica che non ha che sblocca risorse che sono risorse a disposizione dell'azione amministrativa e quindi della città la percezione generale che abbiamo è che il peggio si è alle spalle quella situazione di collasso in cui la città era caduta oggi non c'è più certamente i problemi sono tanti vanno affrontati vanno risolti ma è una città che ha realzato la testa da tutti i punti di vista lavori pubblici urbanistica attività produttive tutto il lavoro che c'è cultura insomma affacciatevi sul chiostro e vedete centinaia di bambini che sono qui dalle 5 di oggi pomeriggio questo credo che sia il risultato che conta di una città che diventa grazie a queste risorse che noi andiamo a sbloccare una città che diventa a misura di bambino a misura di fragilità una città che vuole recuperare ciò che le spetta la serenità e anche una narrazione delle cose meno demagogica meno avvelenata e più sincera ecco più sincera direi e concludo dicendo che governare è assumersi la responsabilità e ringrazio Michele Arsali consigliere Arsali per quello che diceva prima governare è assunzione di responsabilità e questo lo stiamo facendo noi consiglieri comunali di maggioranza per cui veramente li ringrazio confermando il mio atteggiamento sempre di ascolto e di volontà di condividere insieme il percorso imparando e costruendo e crescendo insieme quindi questo è un passaggio importante sblocchiamo risorse fondi economici e andiamo avanti nell'azione amministrativa con la fierezza e la schiena dritta che ci appartengono grazie possiamo procedere con la votazione ci sono astenuti ripeto ci sono astenuti no tambone 20 presenti in aula 20 votanti 14 favorevoli 6 contrari Bovino Michele Bovino Vito Bucci Mastrodonato Salerno Fuzio votiamo adesso l'immediata eseguibilità Fiore d'imperio manca un forse manco io vediamo no manca il ventesimo Bovino Michele vogliamo farlo ok 20 presenti in aula 20 votanti 14 favorevoli 6 contrari Bovino Michele Bovino Vito Bucci Mastrodonato Salerno Fuzio Secondo punto all'ordine del giorno variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 articolo 175,2 decreto legislativo 267 del 2000 con applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2022 articolo 187,1 decreto 187,1 decreto legislativo 267 del 2000 prego Assessore Ciceli con delibera del consiglio comunale 43 del 43 del 7 luglio abbiamo approvato il bilancio di previsione 2023-2025 Il bilancio di previsione come sapete stabilisce appunto le previsioni d'entrata e le previsioni d'uscita alle quali l'amministrazione deve attenersi senza chiaramente poter sforare nei capitoli stanziati chiaramente può emergere nel corso dell'attività amministrativa l'esigenza di apportare delle variazioni alle previsioni di bilancio e l'articolo 175 del Tuel dà la possibilità appunto di apportare le variazioni entro il 30 novembre salvo alcune particolari che possono essere anche approvate anche dopo il 30 novembre ma solo in casi specifici. Quindi oggi c'è la necessità di apportare una variazione al bilancio applicando l'avanzo vincolato. Ora, come sappiamo, con la libera del consiglio comunale, come dicevamo prima numero 27 del 30 maggio, è stato approvato il rendiconto 2022 che prevedeva, che si chiudeva, anzi si chiudeva con 39 milioni e 743 mila di avanzo che a seguito della delibera di consiglio comunale appena approvata pochi istanti fa, ripartisce adesso l'avanzo di amministrazione in 17 milioni e 438 mila per la parte accantonata, 19 milioni e 760 mila per la parte vincolata e 1 milione e 585 mila di parte di avanzo libero. Ora, gli uffici del Comune hanno espresso la necessità di apportare delle variazioni istituendo, diciamo, dei capitoli di spesa specifici, ma, diciamo, come spesa ma, dall'altro lato, coperti, diciamo, queste spese coperte dall'applicazione dell'avanzo vincolato giacché queste risorse dell'avanzo vincolato erano risorse, appunto, che erano confluite o nei fondi, diciamo, o nella parte accantonata o nella parte vincolata. Quindi adesso noi utilizziamo parte delle risorse dell'avanzo di amministrazione confluite nella parte vincolata e parte delle risorse confluite nella parte accantonata, nello specifico 19 mila 402,76 di quota accantonata, 2 milioni 471 mila 429 di quota vincolata e 125 mila di quota che era destinata agli investimenti, sempre appunto dell'avanzo di amministrazione. Quindi applichiamo queste risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato per un totale di 2 milioni 615 mila 831 a copertura del dispese, che andiamo chiaramente poi a istituire nel bilancio di previsione 2023, alle quali queste stesse entrate erano state appunto vincolate. Quindi queste spese accantonate erano state vincolate opportunamente per queste spese. Quindi utilizzeremo in sintesi 2 milioni 615 mila euro di avanzo vincolato per coprire 2 milioni 615 mila euro di spese. Ora senza entrare nel dettaglio di tutte le singole poste che andremo a istituire e a coprire con la variazione. Quindi tra le più importanti posso annoverare il contributo regionale per la fornitura di libri scolastici, 32 mila euro, le spese di manutenzione segnaletica stradale 50 mila euro, spese di buoni servizi educativi da 0 a 3 anni 416 mila e 700 euro. I progetti di vita indipendente di cui si è accennato poco fa, 90 mila euro circa, spese per progetti di vita indipendente per altri 119 mila euro, una quota di 500 mila euro relativa al PNRR per il restauro dell'ex liceo, 680 mila euro sempre PNRR per il rifacimento estramurale che erano appunto somme confluite in avanzo vincolato nell'esercizio 2022 che vengono poi applicate nel 2023 a copertura di queste spese qua. Quindi appunto in sintesi noi applichiamo 2 milioni 615 mila euro di avanzo vincolato per coprire 2 milioni 615 mila euro di spese nel 2023 che erano appunto spese collegate a quelle specifiche entrate dell'esercizio precedente. Grazie. Grazie. Possiamo procedere alla votazione? Non ci sono interventi. Ci sono astenuti? No ci sono astenuti non... 19 votanti manca... no 19 presenti scusate un nome... Mastrodonato. Allora no un attimo solo. Mastrodonato se lei si astiene non deve prenotarsi per la votazione. Quindi dobbiamo... dobbiamo rifarlo. Possiamo ritornare indietro? Bene. Vi chiedo la gentilezza di rivotare. Quindi abbiamo 19 presenti, un astenuto, Mastrodonato, 18 votanti, 14 voti favorevoli, 4 contrari, Bovino Michele, Bovino Vito, Bucci Leonardo, Salerno Ignazio. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità. No, perché 17 presenti? Un attimo solo. Chi è uscito dalla maggioranza? No. Dovrebbero essere 18... perché sono... Scusatemi. No. No, scusate. Fiore deve votare? Sì, ma non ha votato. Ora sì. Bene, allora, 19 presenti in aula, un astenuto, Mastrodonato, 14 voti favorevoli, 4 contrari, Bovino Michele, Bovino Vito, Bucci, Salerno. Il consiglio è terminato. Chi ha bisogno del certificato può ritirarlo qui. Vi auguro una buona serata. Grazie. 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 Grazie.